Parra B-Roll Produzioni nel sacro vincolo del disonore dell'amore, questa sera informazione super speciale e della vergogna soprattutto e per mitigare la vergogna ci siamo messi in gingheri ma vedo che ancora il contatore delle persone fa zero quindi aspettiamo 5 minuti perché mi stupisco che già non ci sia Serafino l'ho chiamato l'ho chiamato il grande Serafino che ci ha chiesto questa puntata sapendo di metterci nella merda una puntata del genere è così importante perché il cosettino che ti indica gli utenti in realtà va sempre in ritardo rispetto a quelli effettivi anche perché quello di StreamYard si figura allora aspettiamo qualche minuto e in quel frangente a parte aprire Twitch è giusto per vedere un po' che si dice che aria ma soprattutto ma soprattutto Serafino ci si sente bene ci si vede bene ah ecco com'era concordo ecco com'era ci vedi ci vedi ci vedi bene allora vi ristaminchia ecco ciao Giada ciao Giada scusa sei arrivata proprio nel mezzo della nel fuorionda ci stavamo facendo un sacco di battute sconche quindi mi vedo e vi sento bene perfetto quindi c'è Giada c'è Serafino e già potremmo anche iniziare così sono tutti no da piano piano arrivano ho visto che ultimamente la chat si sta riportando devo scegliere una canzone per la storia che sto pubblicando della diretta che canzone scelgo purtroppo vediamo purtroppo vediamo con lo schifo di cravatta quale delle tre tanto la puntata è l'onore e per quello Serafino ci siamo messi così esatto abbiamo gli occhiali abbiamo gli occhiali da intellettuale e la cravatta a me gli occhiali servono per vedere non so come fare l'intellettuale io non ci vedo ed è esatto ma quindi ci vedi bene Danilo allora vi resta fotografista vabbè minchia si può dire come la mia la mia la mia è bellissima è un bianco perla è un bianco perla da mafioso da mafioso salvo io non lo vorrei dire ma due su due hanno detto che fa cagare quindi il cento per cento dei pareri più che altro mi fido mi fido di Giada che ha un gusto estetico abbastanza spiccato però a me piace la mia cravatta l'ho scelta io sinceramente la cravatta più bella delle tre è quella di Simone questo vabbè è sempre tutto più bello di Simone coniglio tu dopo le storie che hai fatto oggi ma voi non capite le storie che io faccio sono tutte ironiche e comunque anche se sono ironiche sono più bello dell'ottanta per cento dei fashion blog è un imo è un maledetto imo effettivamente faccia un po' e si fa le foto esatto le foto depresse lui sul letto capelli davanti e così si rimorchia ciao Sergio così si rimorchia con le foto degli emo non è che e che cosa rimorchi con le foto delle cosa rimorchi niente ecco le macchine le macchine e attacco tra l'altro tra l'altro ho cambiato la descrizione su Tinder ho scritto cerco la mia biancaneve essendo io un nano da giardino visto che tutte scrivono su Tinder no nani da giardino e quindi è diventato un quindicenne che ha appena scoperto gli entai no in realtà sono un sedicenne scoperto dagli entai che sono loro che hanno scoperto me e mi sono riempito la casa piena di fumetti va bene allora la puntata di questa sera Sergio grandissimo Sergio Sergio è un programmatore di videogiochi quindi se bazzicate su Steam Switch PlayStation 4 ciao a portatore di luce le cui parole non vedo l'ora di ascoltare ciao a conigliastro a cui nonostante tutto voglio bene ah poi c'è grande credo credo non vorrei dire ma credo che se la sia legata al dito grande 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 quindi Danilo è sotto la scala conigliastro ed è grave questa cosa è grave è gravissima perché io ci ho messo tre anni per far incazzare le ho mandato secondo me secondo me perché a parte le ho mandato una risata sull'ultima storia che ha pubblicato però profilo personale quindi non quello pubblico quindi penso che non abbia gradito la fragorosa risata sei una merda sei una merda anche perché cioè devi fare come me con Margherita calunnia e tenerezza calunnia calunnia e tenerezza devi dosare è che la tenerezza che non mi viene bene capito eh lo so eh lo so devi arrivare a 42 anni va bene allora eh sì perché io a 42 anni dopo due anni di psicoterapia ho incominciato a capire che devi ho capito cos'è no devi ho capito cos'è non la provo ma ho capito cos'è quindi la uso come la strumentalizzo va bene sì ma soprattutto 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 sono stati gli psicofarmaci più che la psicoterapia ovvio appena smetterò di vendere psicofarmaci o divento Patrick Bateman no non lo so soprattutto perché soprattutto perché il 14 torno alla uova e sono disperato va bene allora eh vando alle mance puntata importantissima infatti siamo qui in Gingri in vostro onore per una double feature una double movie una double come si usava i termini termine che poi è stato scoperto e abusato ai tempi del greenhouse con Quentin Tarantino quindi questa puntata è approvata da Quentin Tarantino come circa l'80% dei film che arrivano in Italia non si sa perché se non c'è la tagline il film che ha fatto puntini puntini Tarantino non si può pubblicare in Italia e quindi anche questa puntata sarà la puntata che è piaciuta persino a Tarantino perché si parla di due film importantissimi per il nostro ciclo carcassa talk in bianco e nero che se riuscissi a mettere le nostre immagini in bianco e nero sarebbe bellissimo ma ancora non ci ho perso tempo in tal senso vabbè non mi stai provocando però vai 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 tu bravo infatti perché su StreamYard sicuramente si può fare due film super impegnativi ma io sono su StreamYard vabbè vedi se riesci a farlo due film impegnativi ne avevamo parlato come ho detto facciamo un raccordo con la fine la chiusa come memento la chiusa della puntata scorsa e l'inizio della nostra puntata due film di cui avevamo parlato e che forse volevamo un po' accantonare perché effettivamente di questo film anzi di questi due film se ne è parlato tantissimo magari mai come se ne dovrebbe magari se ne dovrebbe parlare sempre di più perché non è mai abbastanza però ci sentivamo un po' in difetto nonostante e qui metto davanti Simone nonostante la cultura sconfinata in questo campo da parte di Simone e aggiungo in questo caso ciao Mets e aggiungo anche Danilo che si è aggiunto di sbiego visto che la scorsa settimana non ha potuto partecipare e quindi abbiamo preso al volo l'occasione perché sono due profondi amatori prima che conoscitori del genere horror in bianco e nero prolisso meglio prolisso che prolasso comunque vabbè la taglio corto i film sono i vampiri di Freda capolavoro e quello che viene considerato il più grande capolavoro di Mario Bava ma non solo di Mario Bava ma del cinema gotico to court ovvero la maschera del demonio film che ciao green vedi che si è riempita la chat dei nostri super affissionali film la maschera del demonio stra usato stra abusato nelle magliette nelle immagini nei meme nella scuola paradossalmente anche nella scuola di cinema ma più come film pensai che come celebrazione sì ma non solo ma più che come celebrazione di Mario Bava come celebrazione del gotico italiano sento un po' di ritorno però qualcuno ha acceso l'audio di Twitch sicuramente è quello quel qualcuno è Simone io non so neanche che cosa sia Twitch quindi ve lo vedo difficile omazzato anche nell'ultimo il sacro male film di merda ma beh gliele omaggi vabbè forse solo il primo film e per dirla tutto film che poi ha reso iconico il ruolo della screen queen partendo dalla screen queen per eccellenza ovvero la bellissima e mitica Barbara Steele come affrontare questi due film non lo so lo scopriremo questa sera insieme ai due cavalieri i quali omaggeranno tantissimo queste due pellicole e direi che essendone due essendo due i film e cercando di rientrare a prescindere dalla mia introduzione lunghissima nell'arco dell'ora e mezza direi di dividere i due i film ovviamente prima gli anziani quindi lascerei la parola a Simone per i vampiri di Riccardo Freda no tu non sei anziano Simone è più anziano ma aspettava Danilo no no allora innanzitutto io volevo fare una piccola introduzione per creare un anello di congiunzione tra quello che abbiamo trattato fino adesso e questi due film perché così come per Fricks ma soprattutto per Occhi senza volto di cui abbiamo diciamo analizzato oltre che l'aspetto tecnico il valore estetico del film ma soprattutto l'importanza che hanno avuto nella cinematografia avvenire diciamo che i film i due film di stasera sono innanzitutto legati tra di loro hanno un filo conduttore molto molto importante ma poi così come è stato per Occhi senza volto che abbiamo associato a Psyco che è uscito lo stesso anno tra l'altro anche la maschera del demone del 1960 quindi diciamo che quell'anno il 1960 ha ridisegnato o ha gettato le basi di quello che è diventato l'orror moderno abbiamo detto che Occhi senza volto ha lanciato la figura del Mad Doc dei giorni nostri Psyco sicuramente quella del serial killer e sicuramente il film di Mario Bava che io non dico che è una costola ma nasce sicuramente dal film di Freda ha dato il via a un duplice filone quello del gotico italiano ma soprattutto ha dato il via all'horror italiano perché fino a quel film fino alla maschera del demonio in Italia mai nessuno si era azzardato a far vedere quello che ha fatto vedere Bava ma in assoluto quindi anche se all'estero lo facevano soprattutto la Hammer voglio dire in quegli anni aveva fatto vedere ne aveva fatte vedere di cotte e di crude abusando abusando ovviamente del Technicolor Bava ha dato proprio uno scossone ha spinto il cinema nostrano dicendo guardate che anche noi siamo in grado di fare questo quindi diciamo che il valore dal punto di vista storico dei due film è soprattutto questo La maschera del demonio è in assoluto il film che ha decretato l'inizio di quello che possiamo chiamare proprio horror italiano Freda ha gettato le basi cioè Freda ha acceso la miccia perché i vampiri anche i vampiri ha iniziato a far vedere cose che fino a quel momento si erano visti solo nei film che venivano dall'Inghilterra o dagli Stati Uniti ovviamente in maniera un po' più pagata però anche nel film di Freda si vede qualcosa che fino a quel momento non si era mai visto quantomeno gli spettatori italiani non erano abituati a vedere in un film italiano i vampiri di Freda i vampiri di Freda ha una storia un po' particolare perché nasce allora attorno a questo film ci sono un po' di di storie che non sono leggende perché sono state raccontate dai protagonisti quindi sicuramente sono vere però diciamo che ci sono delle due campane quella del regista e quella della produzione a quanto pare il film di Freda nacque da una scommessa dello stesso Freda che all'epoca era uno tra i registi italiani più ricercati sia dal punto di vista tecnico perché Freda tecnicamente era davvero ineccepibile aveva una regia molto 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 curata non particolarmente artistica nel puro senso della parola però sicuramente era una regia efficace ed effetto e poi soprattutto perché aveva successo il Botteghino i film di Freda vendevano quindi le produzioni lo lo tenevano decisamente in buona considerazione anche se si dice non avesse un ottimo carattere quindi quando lui ebbe l'idea di girare questo film perché la storia diciamo gli era piaciuta particolarmente e poi voleva un po' fare qualcosa di nuovo qualcosa di diverso che ammiccasse un po' a quello che veniva da da oltreoceano anche soprattutto dall'Inghilterra lo propose al suo produttore che gli disse sì ok facciamo questo film l'importante è che riesce a farlo con un budget ridotto e in 12 giorni questa diciamo che è la la storia su cui si basa i vampiri Freda accettò la sfida e cercò di farlo in 12 giorni il problema è qua ci sono le due campane è che Freda a due giorni dalla fine delle riprese lasciò il set a detta sua lasciò il set perché la produzione gli tagliò due scene importanti a cui lui teneva molto quindi litigarono e abbandonò il set mentre il film fu completato da bava in due giorni la versione invece del produttore è che Freda se ne andò perché non sarebbe mai e poi mai riuscito a finire quel film nei due giorni che rimanevano quindi per non perdere la scommessa abbandonò il set ora quale sia la verità secondo me non lo sapremo mai perché le due versioni sono sono vere nel senso che ognuno ha detto la propria verità probabilmente la 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 vera la vera storia sta in una via di mezzo probabilmente Freda si trova in difficoltà a finire il film era particolarmente innervosito perché gli avevano tagliato qualche scena quindi la cosa lo fece diciamo alterare abbandonò il set e il film fu completato da da Bava che che era già direttore della fotografia del film si è fatto le ossa quindi con i vampiri oddio si è fatto le ossa si è no nel senso che Bava non era un novellino Bava ha fatto aveva lavorato in tantissimi film e anche per ammissione dei registi con cui aveva lavorato in precedenza molte scene soprattutto quelle più complicate o con molte comparse soprattutto nei film di ambientazione storica venivano girate da lui quindi diciamo che non era sicuramente un novellino probabilmente nel film di Freda ha avuto un ruolo piuttosto importante rispetto a quelli che aveva avuto fino a quel momento però voglio dire sicuramente non era un novellino perché era stato direttore della fotografia di un sacco di film aveva curato gli effetti speciali di un sacco di film ed era conosciuto a Cinecittà come quello che risolveva i problemi quindi quando un produttore aveva un problema a finire un film o un problema particolare con una scenografia o un effetto speciale che magari non si riusciva bene a fare veniva sempre chiamato lui quindi novellino non direi diciamo che ha avuto un buon il film di i vampiri sicuramente forse l'ha spronato in maniera definitiva a realizzare un film tutto suo quello magari sì quello magari sì però diciamo novellino proprio no no novellino no però diciamo che appunto non aveva ancora fatto una regia a tutto non aveva fatto sì la maschera del demonio è il suo primo film anche perché poi riprende anche in larga parte il gotico anche se poi Freda si è sì Freda Bava si porta proprio sul gotico alla Edegralla un po' in pieno invece Freda come tratteremo è un po' un po' un film molto più moderno per l'epoca sì no ma la cosa da dire è che entrambi Freda e Bava che sia tecnicamente che come proprio tipologie di registi sono completamente agli antipodi l'uno l'uno e l'altro devo dire che però avevano in comune il fatto di essere molto molto avanti per l'epoca cioè entrambi cercavano di stupire di fare cose che non erano mai state fatte erano abbastanza audaci in questo senso sia dal punto di vista registrico che dal punto di vista delle storie e di quello che mostravano ricordiamoci che Freda poi ha fatto un film qualche anno dopo l'orribile segreto del dottor Hitchcock che insomma trattava temi per l'epoca soprattutto in Italia ma tabusolo a pensarli e lui ci ha fatto un film quindi sì entrambi devo dire che Freda e Bava soprattutto con questi due film hanno dato una proprio una sferzata fortissima al cinema in generale italiano perché veramente il cinema in quegli anni andava attorno al neorealismo film impegnati quindi a temi che erano molto legati al dopoguerra alla guerra si cominciava a fare qualche timida commedia sempre però di ambientazione neorealistica e loro invece hanno proprio totalmente scombussolato quello che era la visione del cinema di quegli anni per cui sicuramente questi due film in particolare hanno questo grandissimo merito poi dal punto di vista magari tecnico ne parliamo di più perché ad esempio per quanto mi riguarda personalmente la maschera del demonio secondo me non è il miglior film di Bava è un grande film è un bellissimo film ma secondo me Bava dopo quel film ha fatto sicuramente cose migliori anche perché a lui amava tantissimo giocare quindi ha trattato temi argomenti completamente diversi l'uno dall'altro svariando ma anche nello stesso ambito horror trattando tematiche di qualunque genere passando dal gotico ai serial killer ai fantasmi bene o male ha toccato un po' tutti tutti i tassi ma perché fondamentalmente era una cosa che lo divertiva Bava era uno che si divertiva tantissimo a fare quello che faceva forse anche per questo si è un po' autolimitato perché lui stava bene dove stava facendo quello che faceva anche con budget ridotti che secondo me paradossalmente è vero che un po' dal punto di vista della produttivo lo hanno sempre limitato nella qualità finale dei suoi figli però io sono sicuro che lui si divertisse un sacco senza avere soldi senza avere mezzi a fare un film di fantascienza a fare un film horror di ambientazioni gotiche perché voglio dire poi lo lo diciamo ora magari un po' più avanti ma la maschera del demonio è girato negli studio di cinecittà anche il bosco è ricostruito in interni quindi voglio dire là c'è tanto ma tanto lavoro di artigianato cioè fare un film di ambientazione gotica che prevede molte scene in esterna girato tutto in uno studio di cinecittà ma lo stesso film di fredda la stessa cosa ci sono delle scene in esterna girate a parigi però molte altre sono tutte girate in studio ho letto che fredda raccontava che proprio il quartiere di montmartre è stato ricostruito negli studi di cinecittà con delle scenografie di cartapesta quindi l'artigianato e l'inventiva soprattutto di Bava ma voglio dire anche l'audacia del regista ci sta hanno sicuramente fatto tanto e Bava in questo era maestro e si divertiva da morire tra l'altro prima Bava prima di girare la maschera del demonio fece Caltichi il mostro immortale sempre con fredda anche là lui girò fu una sorta di secondo regista e là c'è la mitica forse una delle sue invenzioni più geniali in assoluto perché per chi non lo conoscesse Caltichi il mostro immortale è una sorta di glob italiano e non si riusciva a ricreare quell'effetto quel mostro diciamo in forme di natura ameboidale ma da buon romano e da buon romano Bava lo fece con due chili di trippa Bava non era romano no giusto Sanremese Sanremese non so se sono i classici aneddoti però dice lui non voleva andare a lavorare con gli americani perché dicevano questi c'hanno i soldi io sono un falegname cazzo vogliono e il che è sbagliato perché ma lui lui diciamo allora io sono sicuro che lui appunto si divertisse e poi aveva sicuramente dove lavorava Cinecittà aveva una libertà assoluta anche se non aveva i soldi però i produttori lo avevano in grandissima considerazione e stima come proprio professionista per cui credo avesse davvero non dico carta bianca ma quasi nella realizzazione diciamo dei suoi lavori cosa che probabilmente con una grossa produzione non avrebbe avuto e poi c'è la famosissima sua intervista che gli fecero quasi a fine carriera dove gli chiesero ma secondo lei Bava perché i suoi film hanno così successo in America invece qua in Italia non se li caga nessuno e lui rispose ma perché gli americani sono più fessi di noi esatto è vero da buon italiano quindi secondo me c'è anche un po' questo quindi diciamo dal punto di vista ben o male storico l'escursus l'escursus è questo magari non lo so ora cominciamo a parlare un po' più nello specifico dei due film nello specifico dei due film iniziamo dai vampiri eh sì cronologicamente bene 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 allora i vampiri facciamo una brevissima sinossina diciamo che i vampiri è ambientato a Parigi e narra diciamo una storia poliziesco thriller in cui che vede come protagonista un giornalista che è alle presse con un caso diciamo molto particolare che sta terrorizzando Parigi che vede il ritrovamento di cadaveri di giovani donne completamente dissanguate e da qui il titolo del film quindi lui con l'aiuto di una ragazza è un po' ostacolato da da un commissario della della polizia cerca di di far luce su su questo caso eh che eh a quanto pare vede eh il tutto incentrato nella dimora dei due ground eh che tra l'altro lui conosce in quanto la duchessa se non mi sbaglio era la duchessa Dugran era stata amante del padre eh e quindi diciamo che la eh la storia parla un po' un po' di questo della eh dell'indagine che fa questo giornalista cercando di scoprire il mistero che si cela dietro il ritrovamento di dei cadaveri di queste giovani donne ehm diciamo che il film è eh per l'epoca appunto come dicevamo prima è stato sicuramente eh innovativo perché mh ha 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 mostrato diciamo al pubblico italiano un un tipo di storia sospesa appunto tra il poliziesco e eh delle piccole vene horror cosa che fino a quel momento in Italia nessuno eh aveva mai osato eh aveva mai osato fare mh il film è girato in un bianco e nero abbastanza anche quello inusuale perché mh e lo vedremo soprattutto con raffrontandolo al a film di Bava che è invece un una resa estetica totalmente diversa il film di di Freda ora non so se perché è ambientato a Parigi ma un po' eh ricorda il bianco e nero francese cioè quelle quei toni e quelle luci tipiche del del cinema di quegli anni francesi ehm ma soprattutto il film di Freda eh eh è importante perché è uno dei primi se non il primo film italiano che mette come protagonista del film una donna cattiva una donna malvagia cosa che anche anche questa fino a quel momento non non si era vista e da lì in poi cominciando appunto anche dalla maschera del demonio di Bava e invece i registi italiani cominceranno a fare non solo ma è il primo che sfrutta il tema del doppio e anche quello è un tema ricorrente del cinema gotico eh italiano tra l'altro è molto ingegnoso interessante il tema del doppio in questo film perché in questo film il doppio è la stessa persona mentre spesso soprattutto nei film avvenire cominciando appunto dalla maschera del demonio di Bava il doppio è inteso come spesso come discendenza quindi una persona che somiglia in maniera impressionante a un suo antenato un suo avo che poi magari ritorna sotto forma di fantasma o di o di altro qui invece il doppio è la stessa persona che vive due vite differenti una sorta di dottor Jekyll e mister Hyde per intenderci è che io ovviamente ve lo dico adesso sia che per questo che per l'altro film non farò nessuna attenzione spoiler o cose del genere perché credo che sia totalmente inutile perché appunto il titolo del film I vampiri nasce dal fatto che questa vecchia anziana duchessa grazie al suo cugino scienziato medico riusciva mediante una trasfusione di sangue di ragazze giovani a tornare a ringiovanire diciamo per un determinato periodo di tempo quindi i vampiri del titolo in pratica sono intesi come coloro che prendono il sangue di queste ragazze per ridare la giovinezza alla protagonista tra l'altro signori la protagonista io credo che sia una delle più belle attrici italiane di tutti i tempi ma davvero di una bellezza paurosa paurosa quindi quindi questi diciamo che sono le questa è normale è normale è Danilo che corre è normale arrivo subito nefra tempo scusatemi quindi stavo dicendo quindi diciamo che le le novità che portò Freda sullo schermo diciamo che sono state molteplici le tematiche soprattutto il ruolo di una donna cattiva protagonista anche poi una curiosità legata a questo film che questo film è anche che è stato la causa per cui da quel momento in poi tutti i film girati in Italia in Italia di ambientazione diciamo non impegnata sì esatto c'è una Maria Canale bellissima tra l'altro qua se non ricordo male fu quasi Miss Italia perché arrivò seconda dietro Lucia Buosè comunque lei bellissima veramente Gianna Maria Canali bellissima 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 e bravissima sì 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 no ma gli attori sono in questo film sono tutti tutti bravissimi quindi stavo dicendo ma mi sono perso un attimo e manca Danilo bevi l'assenza che ti ripeto eh sì è l'assenza è l'assenza che mi ha fatto un attimo distrarre mi ha fatto sì mi ha fatto un attimo distrarre mh ah stavo stavo dicendo di ah sì sì ecco ho ripreso stavo dicendo che questo film oltre diciamo tutti i meriti eh tecnici anche nel campo del cinema horror è anche stato il motivo per cui da quel momento in poi eh tutti i film di genere eh fatti in Italia eh tutti gli autori eh spesso anche le maestranze usarono degli pseudonomi americani perché al eh nelle sale uscì con i loro veri nomi quindi uscì come un film di Freda e Freda raccontava che alla mh alla prima Roma del film la gente accorreva a vederlo perché era i vampiri siamo nel periodo appunto del di Dracula della Hammer quindi voglio dire i vampiri erano eh diciamo i mostri per eccellenza del periodo quindi richiamavano sicuramente eh un buon pubblico anche se in questo film di vampiri non ce ne sono zero infatti però Freda raccontava che una volta arrivati davanti al cinema quando davanti alla locandina leggevano regia Riccardo Freda sì regia di Riccardo Freda non entravano al cinema giravano diciamo no vabbè questo è un film italiano e se ne andavano quindi da quel momento in poi poi eh i i i registi cominciarono ad usare degli pseudonimi eh stranieri tra l'altro con la genialata di tradurre letteralmente i loro cognomi in inglese bellissimo eh sì tipo Anthony Dawson sì 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 vai Carly grazie Rafi di questa coach non ti preoccupo intanto vi facciamo notare le bellissime emoticon di carcassa le abbiamo anche fatte dal nostro Simone però io vorrei sapere su cinque emoticon anzi su sei emoticon perché l'unica che non hanno preso è la mia ditemi Twitch ha ritenuto oltreggioso la mia faccia la mia faccia esatto Twitch male Twitch infame per te solo l'ame voglio la mia faccia sì nei vampiri c'è quella cosa eh perché io ero andato siamo arrivati perché io sono andato a far stricare la riunione siamo a siamo a siamo arrivati alla fine del di come finisce della live è stato un piacere ciao a tutti Danilo Danilo che non so dove siamo arrivati Simone che sbariona con l'assenzio abbiamo parlato abbiamo parlato del film Serafino ci chiede se per caso questa cosa della del sangue come risulta l'eterna giovinezza se ci si se può essere ci può essere un collegamento quantomeno un'ispirazione sul film La morte di Fabella di Zemeigis diciamo che comunque la cosa delle soprattutto col sangue qui secondo me gioca col fatto dei vampiri ricorda tantissimo la cos'era la duchessa Betori non mi ricordo se era duchessa la Betori però la Contessa la Contessa Betori la quale si diceva storicamente si immergeva nel sangue di Vergini per avere la famosa eterna giovinezza che poi non è che necessariamente debba essere vero però probabilmente se l'hanno uccisa dicono le leggende sì anche se credo abbiamo ci sono ottantina di ragazze rubate dai popolani vabbè cose che capitano dicevo c'è chi ha fatto di meglio no ma che vita che vita aspettava loro cioè considera che Vlad impalava la gente solo perché non aveva la tv quindi mentre mangiava non sapeva che vedere impalava un villaggio che grande invenzione la tv stavo dicendo per rispondere a Serafino volevo dire che sì ora non so onestamente quanto la morte di Fabella può essere stato ispirato da sto film perché ora onestamente tra i due credo che abbia ispirato molto ma molto di più i registi moderni Bava che non Freda sinceramente però anche se il film è incentrato sulla ricerca dell'eterna giovinezza io credo che è un po' più interessante da analizzare nel film di Freda non tanto l'aspetto della ricerca dell'eterna giovinezza ma il fatto che siamo circondati da persone che non sembrano quello che sono veramente cioè nel senso che si nascondono o in qualche modo scegliano la loro vera identità e i loro veri intenti io penso che Freda abbia puntato più su questo che sul fatto della dell'elisir di giovinezza credo che il film sia più incentrato sul fatto della poca conoscenza di chi abbiamo intorno più che sulla sull'eterna giovinezza sì sì o più critica della società che ricerca dell'eterna giovinezza o quantomeno ricerca di qualcosa che non si può che non si potrà mai raggiungere che si sa che non si potrà mai raggiungere quasi uno spin off per chiunque ricordi la scena della settimana scorsa di occhi senza volto delle donne borghese che escono dal congresso dicendo dottore quello che lei sta facendo per noi in realtà se si fa uno spin off oltretutto entrambi a patiggio se si fa uno spin off e tra l'altro bellissima la risposta che dà per voi non c'è più niente da fare sempre quando riguarda voi la scienza è in ritardo la scienza è in ritardo fantastico è bellissimo perché quella scena mi ricorda tantissimo Martyrs però collegamenti di un'attualità disastrosa cosa che può dipendere da Carpenters in fuga da Los Angeles il girone della plastica però si sono d'accordo col fatto che i vampiri più che un film estrettamente horror cerca appunto di fantastico non c'è niente cerca appunto a differenza della maschera del demonio cerca con l'impianto del thriller messo in un contesto gotico moderno cerca appunto questa critica nei confronti della società perché già qui ci sono i prodomi della sfiducia nei confronti delle forze della giustizia che puntualmente l'abbiamo ritrovato in tutti i film neanche a farla apposta in tutti i film di cui abbiamo parlato cioè rispendi i soldi per andare a vedere Run no per la sfiducia delle forze alla giustizia spendili per fare abbonamenti ai canali twitch che ti dà esatto che ti costa anche di meno 4 euro al mese 4 euro al mese invece di 9 euro uno spettacolo di merda a me meno 3 3 no no 4 su sono gli abbonamenti standard no no sono gli abbonamenti standard di twitch dai non mi distrarre col tuo vile denaro oh vedi la critica della società della borghesia attaccata al denaro qui c'è la borghesia attaccata allo status symbol c'è il giornalista che viene trattato come una merda perché giornalista la polizia che non sa che pesci pigliare anche quando ha davanti il colpevole fa finta di niente le ragazze che in quanto tali sono vittime inconsapevoli e non si sa che fine facciano lo stesso il macchiettistico cieco che tanto cieco non è che poi viene messo come scamotage per beccare la tipa l'utilizzo di persone che poi anche qui molti anni prima di Ferrara c'è la questione della tossicodipendenza perché coloro che usano come come goal come maggiordomo come colui che deve rapire le donne è praticamente un tossicomone non ti dicono di cosa ma possiamo solamente immaginarlo e e lo tengono in ostaggio tramite la sua dipendenza come la duchessa in ostaggio del suo eterno amore per questa famiglia da padre in figlio sfidando la morte ciao sospiri sfidando la morte pur di arrivare ai suoi scopi quindi non è proprio un horror infatti è geniale sicuramente come ha detto Simone è stato utilizzato per una questione di marketing però l'utilizzo del titolo dei vampiri che anzi il quale cento anni dopo verrà ripreso anche da Labbonelli per un Dylan Dog è come gli essi vivono dei live di Carpentere i vampiri sono intorno a noi non necessariamente sono i mostri ma sono i borghesi anzi è l'uomo medio borghese che come un parassita cerca di nutrirsi del sangue di chi è più debole e ci sta tanto sì esatto secondo me è più questo quello che Fredo voleva sottolineare con il suo film poi sì stavo leggendo quello che diceva Serafino sono d'accordo con lui sicuramente non avrebbe avuto la stessa fortuna anche se in effetti questo film non è che ha avuto una grandissima fortuna dal punto di vista almeno all'epoca all'epoca proprio in Italia fu un fiasco totale ma anche all'estero non è che ebbe tutta sta gran cassa di risonanza sì è diventato un film di culto negli anni sì sì è diventato un film di culto in seguito però sì sicuramente hai ragione perché senza l'apporto di Bava sia come per gli effetti speciali per la fotografia ma anche per le scenografie perché lui curava anche le scenografie anche se non ci metteva la firma però insomma si occupava anche di quello non sarebbe stato diciamo ecco lo stesso lo stesso film però tu lo scrivi è un genio ricordiamo che Freda era un grande regista a prescindere cioè lui prima di sto film ha fatto veramente grandissimi film di diverse diverse ambientazioni però ha fatto grandi film Freda è un grande regista sì no ma non un grande regista però le intuizioni di Bava se uno è innamorato del regista e l'occhio lungo le nota secondo me è più proprio su quelle venature gotiche un po' sull'or fantastico secondo me c'è lo zambino di Bava senza nulla togliere come hai detto tu alla mano del regista no ma c'è c'è da togliere nel senso c'è assolutamente da togliere addirittura attenzione Danilo no ma assolutamente anzi vi ho ascoltato anche con molto piacere c'è da dire che nonostante Freda sia sempre stato uno dei registi diciamo così più importanti di quel periodo resta resta ovviamente in dubbio il fatto che Freda ha un tipo di regia molto classica quindi si rifà molto ovviamente al genere che in quel periodo così poi come sarà pure ovviamente con occhi senza volto e tutto quel filone che appunto sono i diabolici in Francia quindi si rifarà a quel genere lì ma con una mano così come possiamo vedere in realtà fin troppo classica da questo punto di vista perché i vampiri è un film estremamente classico diventa meno classico e quindi diventa diciamo quando è che è più interessante i vampiri è quando appunto ci si discosta dalla parte investigativa che è tipica dei gialli che noi abbiamo chiamato gialli quindi dal thriller dei diabolici francesi e entra diciamo così un po' più morbosamente nel lato horror tra virgolette horror forse un parolone e c'è da dire questo prima Simone giustamente parlava della famosa scommessa di Freda col produttore ma gli addetti ai lavori in realtà parlava di tutta altra storia è che a Freda in realtà poco interessasse sto film si parla che a Freda non è che gli suonasse tanto sta cosa del film e si parla cosa che molti lo sanno nel diciamo anche tra le persone diciamo intervistate in quel periodo che buona parte del film sia stato diretto da Bava cosa di cui Freda andava molto orgoglioso perché era da tempo che Freda e Bava tutti che collaboravano insieme ma era da molto tempo che Freda tentava in tutti i modi di far emergere Bava come regista e quindi preso diciamo così da questa voglia di lanciare Bava addetta dello stesso Bava in realtà che diciamo si finse un po' stanco di voler girare questo film che anche vero non era nelle sue corde e quindi di lanciare Bava alla fine Bava dirige buona parte del film e Freda gli dice ma perché non ti fa un film tuo allora ovviamente il produttore prende la palla al balzo e gli offre quello che gli offre che tutti sappiamo ma in realtà è questa la cosa interessante i due film sono strettamente collegati proprio per questo uno è la genesi dell'altro cioè i vampiri co diretto a Bava che oltretutto c'è un bellissimo spezzone anche su youtube si è andato a cercare di Bava che spiega buona parte degli effetti speciali anche usati ovviamente nei vampiri per invecchiare e svecchiare le persone in tempo reale fatto luce blu quello è pura fantascienza ma bisogna ricordare che Bava come diceva come diceva giustamente Simone prima Bava non era un cretino cioè nel senso Bava la famiglia di Bava il nonno di Bava ha fondato l'istituto luce e ha creato il logo dell'istituto luce Eugenio Bava padre di Bava è stato il primo effettista italiano da cui poi Bava ha imparato il mestiere vero e proprio e poi tutto si è interrotto su Mario Bava non c'è stato nessun erede nessun era una battuta fino a Alex credo si ami Alex no Lamberto no fino al figlio di Lamberto si mi pare che si chiama Alex vabbè molto bravo lui in realtà quindi in realtà la genialità sta nel sangue di sta gente non lo so su Lamberto avrei qualcosa da dire non me ne voglia Lambertone però tolto demoni e magabro dai vabbè comunque in ogni caso in ogni caso poi gli piace poi gli piace al mio potete allora in ogni caso il fatto è che quindi cioè Bava impara proprio in casa questi misteri assurdi nasciamo perde nasciamo perde che vorrei di Bava che non è per niente Lamberto che non è per niente un regista horror Lamberto è un regista fantasy ed è stato uno dei primi dopo Lucio Fulci a fare con Conquest ovviamente Lucio Fulci Bava è stato uno dei primi a fare quello che oggi ci facciamo tutti le seghe con Signore degli Anelli e Cazzi Vali Lamberto Bava ha fatto con la fantasia con quella fantasia gli americani se lo sognavano voi vi fate le seghe quindi io ho un motivo per dire ho un motivo in più per odiare Lamberto Bava visto il mio odio per il Signore degli Anelli il film no ma in generale per il fantasy uno dice il fantasy Harry Potter queste cose che comunque vanno nel senso sono famose nel senso la gente le apprezza bisogna dire ma comunque in Italia senza trascendere troppo si sa dell'importanza di Fantaghiro comunque anche all'estero ma anche a livello televisivo come serie tv e come fantastico oltretutto c'è alcuni film di Lamberto Bava che mamma mia comunque ogni caso dicevo che in realtà è questa la differenza di base l'estrema classicità di Freda è l'estrema innovazione di Bava prima Simone diceva forse non è il film migliore di Bava forse no la maschera del demonio la maschera del demonio ovviamente esatto la maschera del demonio forse no però è sicuramente come si usa nel gergo è sicuramente il suo quarto potere in che senso la capacità come si diceva prima di usare e sfruttare al meglio la miseria la maschera del demonio è un film che spezza tutto spezza tutti i canoni del cinema di quel periodo fa vedere delle scene di un cruento che non si era mai visto prima non si era mai l'idea della maschera piantata con un colpo e oltretutto lui osa ancora di più perché in qualsiasi altro regista si sarebbe fermato al martello che copre lo schermo e diventa nero perché Bava e contro luce schizzi di sangue e già mette in chiaro dicendo ok questo non fa un genere normale cioè l'idea che è la prima volta di uno zombie che viene fuori dalla tomba che si vede fuori dalla tomba ma sta cosa di Romero si sa che esce fuori dalla terra quindi imposta già un canone estetico sia per lo zombie che poi verrà ripreso come sappiamo tutti ma molto molto dopo e l'idea principale come diceva giustamente anche con gli astro l'idea della scream queen come la chiamate insomma quella che urla nei film quella che strilla la chiamiamo noi è così che si chiama voi gente americanofila no però sì ed è quindi lui imposta veramente delle cose che che in tutto il mondo in realtà si sognavano nemmeno la Hammer osava così tanto da questo punto di vista e la Hammer è molto è molto sì come casa riproduttrice debitrice di di molto cinema di bada ma poi soprattutto scusate ti interrompo però è importantissimo per gli anni in cui è uscito è molto sensuale molto sensuale erotico erotico è proprio morboso sensuale e questo lo potevamo fare solo noi questo lo potevamo fare solo noi sadomaso in un momento in cui il termine sadomaso ci farà poi un film intero con la frusta e il corpo ma poi quel quadro gigantesco esoterico di Barbara Stier nuda ma dove mai si è visto negli anni 60 anche nell'erotico quello si può definire un nudo completo quello si può definire un nudo ed è stato furbo perché dice non posso farlo con l'attrice perché è l'intelligenza non posso farlo con l'attrice però te la metto nel culo lo stesso esatto esattamente ed oltretutto è fantastica come cosa è fantastico si parlava del bianco e nero ma il bianco e nero della maschera del demonio è un bianco e nero che è probabilmente il più fumettistico come si sia mai visto al cinema con dei contrasti assurdi e ovviamente stiamo parlando ripeto non di un cretino ma stiamo parlando di uno che ha fatto il direttore della fotografia in tempi non sospetti per la nave bianca di Rossellini che è considerato il primo film neorealista italiano quindi è uno che ha fatto i migliori film di Monicelli grande Danilo bravo il 50% va Danilo Frankie si è iscritto sul nostro Patreon grazie Frankie grazie comunque riprendendo al volo quello che diceva Danilo il bianco e nero della maschera del demonio è quasi espressionista è estremamente espressionista ed è più espressionista secondo me è anche qualcosa in più di espressionista se l'ha un po' inventato lui è un'evoluzione dell'espressionismo esatto è quello che farà negli anni fine anni 80 inizio anni 90 Barton cioè è quello che farà Rodriguez per senso ovviamente 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 ma anche se Barton in realtà è Barton è il patente lo dice ovunque nel senso che ci sono le fotografie ma no ma poi ci sono le fotografie al profondo rosso store di Barton con tutti il cofanetto dei video di Mario Bava che ci hanno abbracciato come un bambino di tre anni ma Barton senza senza Bava Barton ha sempre detto senza Bava Svankmire e Lynch non avrebbe mai fatto il regista ma assolutamente no perché basta pensare al mistero di Silly Piollo per praticamente Operazione Paura di Mario Bava è Bava è Bava è Burdalac Burdalac di Operazione Paura quindi i tre volti della paura i tre volti della paura è quello praticamente Silly Piollo è solo quanti sono anche la cavalcata esatto che poi genialata di Bava nel far vedere nel finale perché si prendeva per il culo da solo l'ironia ma quello che dicevi tu sul fatto del quadro del nudo di Barbara Steele che a parte che è un film come tutti i film di Bava basta guardare se le donne per l'assassino che sono estremamente erotici questo lo dice Alamberto per esempio in un commento al film sei donne per l'assassino del primo omicidio dove l'assassino tirando per i capelli la vittima la donna che poi non l'ha visto è tutto ambientato all'interno di un salone di moda quindi modelle buonissime come se piovessero viene trascinata esatto viene trascinata e ovviamente la prima cosa è si vede sto coscione enorme che viene tirato che lui proprio sta là con la telecamera perché ovviamente è una cosa prettamente francese oltredutto è una cosa che solo noi europei potevamo fare in America queste cose non esistevano in America rompevano il cazzo a Hitchcock per mostrare la tazza del cesso figurati se potevano far vedere una coscia o il peggio anche un quadro addirittura di un nudo sarebbe stato impossibile e Bava indubbiamente da questo punto di vista è sicuramente ahimè perdonatemi ma più di Freda è sicuramente il regista più interessante di quel periodo e come dicevi sempre come diceva giustamente prima anche con il ghiastro il fatto di dire famosa la frase su perché non va a lavorare in America in realtà lui diciamo in molto silenzio in America ci ha lavorato un po' sì nei peplum nei peplum esatto esatto vabbè con Diabolic che è poi un'operazione pop che in Italia penso nessuno avrebbe mai fatto vediamo con i manetti infatti è di forte ispirazione l'hanno messo loro ma io lo so che cazzo hanno convidato però spero perché su Fanatici bava quanto tutte le persone sanno di mente però la cosa interessante è proprio quella che quando gli americani avevano in mano il regista di nome ma che era poco avezzo a gestire determinate cose con effetti speciali diciamo questi scenari enormi ma rimpiccioliti grazie all'effetto dello specchio eccetera eccetera ovviamente quando questi qua erano pure abbastanza incapaci chiami bava e ti sistema la situazione in realtà chissà quanti film americani ci sono che non sappiamo che la buona parte sono stati diciamo così diretti da bava lui doveva agire oltretutto con De Laurentiis doveva agire a Baby King no Baby Kong che doveva essere il continuo di King Kong che poi si è rifiutato mi sembra perché De Laurentiis non è mai stata una persona affabile di carattere insomma vabbè l'ingeggine era bravo l'ingeggine ne sa qualcosa eh sì sì era bravo non è che però gli ha fatto fa velluto blu gli ha fatto fa velluto blu dopo la stronzata di Dune ha capito dicendo che cazzo ho fatto fai velluto blu diciamo che De Laurentiis era un produttore vecchio stile cioè sa cosa è che vuole il pubblico esatto no come il figlio esatto sì lasciamo stare e ci ha sempre indovinato nel bene come nel male perché fu quello che non volle Meryl Streep come attrice e cose varie comunque aveva le sue idee molto marcate beh c'erano dei canoni estetici ben precisi all'epoca io me lo ricordo l'intervista che fece Meryl Streep a Letterman che disse quella famosa cosa su Dune De Laurentiis però c'erano altri canoni estetici all'epoca Meryl Streep è una bellezza soprattutto basta vederla in Manhattan di Woody Allen nel senso è una bellezza indiscutibile ma è una bellezza che negli anni 70 volevano la biondona di che parliamo ovviamente non è proprio meglio però tornando se non vi rompo troppo il cazzo tornando sei qui a posto alla maschera del demonio nel senso c'era Simone prima non voglio fare spoiler ma stiamo parlando di un film di 30 anni fa chi non l'ha visto si vergogna stava su Marte probabilmente no però a parte di scherzo chi non l'ha visto lo recuperasse che è veramente un film che è assurdo no come diciamo sempre tu prendi l'ordine dei pensieri come diciamo sempre non fatevi ingannare dal fatto che siano film bianco e nero hanno un ritmo moderno cioè hanno dato la stura proprio hanno instradato il cinema moderno quindi vedere uno di questi film che stiamo trattando fino a oggi non vi darà l'effetto di noia dopo 10 minuti lo vorrete staccare a parte che sono film brevi ma poi sono film dal ritmo serrato dal ritmo serrato ma in realtà non solo anche perché ragazzi nel senso se vi piace Barton come dicevamo se vi piace Tarantino come vi dicevamo se vi piace Rob Zombie come dicevamo Rob Zombie con la maschera del demonio se vi piacciono tutti questi questi registi qua se vi piace Tarantino tutti questi registi si rifanno tutti a Mario Bava lo stesso Marti Scorsese si rifà a Mario Bava cioè i movimenti di macchina di Marti Scorsese sono i movimenti di macchina di Mario Bava e li faceva però Mario Bava negli anni negli anni 60 dove le Mitchell non so se avete mai visto voi le Mitchell cioè nel senso erano dei carro armati ci voleva mezza giornata solo per montarle e lui ci faceva delle carrellate e dei piani sequenza mi ricordo 6 donne per l'assassino un piano sequenza che è assurdo ma basta pensare alla ragazza che sapeva troppo basta vedere la ragazza che sapeva troppo e dici ok Profondo Rosso e Dario Argento Dario Argento non si è inventato niente cioè eppure questo oltretutto è un film bianco e nero quindi prendetelo in considerazione la ragazza che sapeva troppo per questo la questione dell'assassino con i bianchi già si vede dai vampiri di freddo ciao Dario ciao Dario ma ti dirò di più in realtà l'assassino di Profondo Rosso è l'assassino di 6 donne per l'assassino uguale bravo si 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 ma mi corresse mi corresse Simone in una puntata sul nostro speciale che vi consigliamo di recuperare tutti i colori del giallo e gli disse Coniglio vabbè tu sei bravo non capisci un cazzo la cosa di Argento non si è inventato un cazzo e 6 donne per l'assassino di Bava io mi acculpo 6 donne e l'assassino di Bava e la ragazza che sapeva troppo l'insieme delle due cose crea Profondo Rosso inevitabilmente e ovviamente è la fotografia di Bava così come il Cicoc fu copiato pure in Turchia ma ti dirò di più ti dirò di più in realtà è che ovviamente Bava è di forte ispirazione Cicocchiana ovviamente come come tutti tutti i geni che lavorano al cinema ovviamente chi non si rifà il Cicocch è impossibile forse forse Snyder non si rifà il Cicocch e si vede secondo me secondo me per fortuna per fortuna si prova si prova ma così proprio però alla sua maniera perché dai sa un po' Army of the Dead sa un po' di uccelli ah voglia che scherzi uguale 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 però ecco c'è da dire c'è da dire che Bava in Italia non ha niente da invidiare a Hitchcock niente perché se Hitchcock aveva un tipo di visione molto innovativa cioè nel senso Hitchcock era molto più interessato spesso alla trama dei suoi film e chiunque ha letto Hitchcock lo sa nel senso lui era veramente un fissatone con deve essere una trama intoccabile deve tutto deve tornare anche nell'incredulità però Sni nel senso ogni film ci metteva sempre però allo stesso tempo esatto esatto un po' come Kubrick per esempio il mero pretesto è la trama tutto quello che viene dopo è puramente tecnica Bava invece lascia perdere la trama perché la lascia totalmente perdere perché come dice spesso in alcune sue interviste sto genere campa di tre storie tutto il resto e ci gira tutto attorno ma le storie sono tre nella storia del cinema il resto è tutta variazione sul tema quindi a lui poco interessava anche se come dicono tipo bevi l'acqua come dice anche bevi l'acqua era comunque uno che diceva no tu comunque la sceneggiatura la fai dove dico io nel senso va bene che tu fai lo sceneggiatore ma la sceneggiatura la fai dove io ti dico e devi farla e oltretutto lui era così poco innamorato della trama che famosissima la cosa che tutti rimanevano sconvolti e lui strappasse fontaggine dai copioni dicendolo siamo lunghi e le strappava e le eliminava totalmente dalla storia come se fosse niente ed era uno oltretutto che non girava mai con il timing quindi con il timer per la pellicola perché era così abituato essendo ovviamente un grandissimo direttore della fotografia era così abituato nel rumore e nella capacità di sapere quanta pellicola sto sprecando sprecando che non aveva bisogno del tempo era già tutto a mente già sapeva come comporre tutte le immagini Bava è un genio Bava è il genio italiano ovviamente così come funziona in Italia nessuno se lo caga abbiamo un regista che non ha niente a che vedere non ha niente di cui diciamo così non ha niente di meno di Alfred Hitchcock ovviamente solo che in America Alfred Hitchcock è osannato nonostante poi era inglese ma viene osannato come se fosse ah nonostante non abbia mai vinto un Oscar manco uno e come dice Truffaut voi qui lo chiamate Hitch noi lo chiamiamo Messier Hitchcock brividi in Italia abbiamo Mario Bava che nessuno ci dire ma manco alle scuole di cinema manco alla scuola di cinema come dissi la maschera del demonio viene studiato ma Mario Bava no ma la maschera del demonio viene studiato se hai un ottimo docente ma altrimenti Mario Bava non viene preso assolutamente in considerazione ed è gravissimo oltretutto visto che i film di Mario Bava hanno fatto scuola e hanno fatto scuola fino ad oggi ricordiamoci che Le Iene di Tarantino esiste perché perché Mario Bava negli anni 70 girò un film che era Cani Cani Arrabbiati Cani Arrabbiati l'ultimo film che poi fu montato dal figlio esatto il primo film mamma mia che è il primo film probabilmente palpa Danilo ma allora il problema fondamentale è che Bava faceva film di genere è quello il problema in Italia tutti quelli che fanno film di genere non vengono presi in considerazione almeno fino a poco tempo fa adesso un po' il cinema di genere un po' è stato rivalutato ma grazie il posto Tarantino il cinema di genere italiano il cinema di genere italiano che è tanto bistrattato soprattutto nei nostri festival e questo è molto triste secondo me perché poi arriva un refon al 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 come si chiama al festival di Roma del cinema e ci deve dire no io sto rimasterizzando Vampiri dallo spazio di Mario Bava perché è un capolavoro con gli italiani che non sanno neanche cosa sia con la gente che sta all'alto ma di che sta a parlare questo cioè uno che giustamente ti deve dire che ti deve danese no di dove è lui non mi ricordo danese danese un danese che deve venire e ti deve dire guarda ti è piaciuto Alien? Mario Bava l'aveva girato un po' di tempo prima però l'hai vista quanto è bella l'astronave quanto è bella l'astronave quanto è bella l'astronave che vedono sul pianeta del primo Alien che a te che do lo cinta l'hai fatta uguale Mario Bava prima cioè con la scatola delle scarpe esatto con la scatola delle scarpe Bava l'aveva fatto con delle scatole di scarpe e delle lucette colorate in un acquario così la scena di quando sale l'astronave lui la fa in un acquario per pesci ed è una cosa fantastica le tute le tute che hanno loro nel film sono delle tute da sub ma sono perfette sono credibilissime è una cosa fantastica il rivolire del magma fatto con la polenta bravo ma la sua forza era quella la sua forza era quella che riusciva a rendere credibile qualunque cosa ma proprio con nessun mezzo non con pochi mezzi con nessun mezzo perché per fare gli effetti speciali andava al supermercato e comprava due cose faceva la spesa giustamente tu prima hai citato il famoso mostro fatto con la trippa ma quella era geniale ovviamente e poi per dire una cosa che giustamente come dicevi tu prima che viene considerato cinema di genere tra virgolette ricordiamoci che Fellini ha fatto un film diciamo un buon 15-20 minuti di film puramente di genere tratto da un raccordo di Edgar Allan Poe che Toby Dammitt dove lui oltretutto copia un film di Mario Bava che è appunto Operazione Paura la prima bambina rompicoglioni credo che comunque Fellini Fellini lo citi questa cosa perché erano amici erano vicini di casa erano amici lo invitò Fellini ad andare a vedere anzi lo invitò Giulietta a andare Giulietta Masina al cinema dicendo vieni da vedere i film che ha fatto Federico e Mario Bava si girò verso Giulietta e disse beh però mi ricorda qualcosa e Giulietta gli disse ma tu lo sai com'è Federico cioè oltretutto ripeto la prima bambina maledetta come The Ring e tutti i resti appresso e The Grudge e tutte queste cose in realtà la prima bambina è stata fatta da Mario Bava Operazione Paura che oltretutto non era manco una bambina ma era un maschiettino però e fa impressione visto tutt'oggi quel film cioè ogni volta che si vede quella bambina a me impressiona come un cane davanti al vetro e la faccia bianca di questa bambina bionda terribile è fantastica io ti dico che mi impressiono ancora con la maschera del demonio per quanto sia in costume assurdo assurdo allora come dicevi come dicevi tu è indubbio è innegabile che Bava è punto di riferimento è fonte di ispirazione io non direi che è copiato perché io credo che forse l'unico che veramente lo ha copiato senza citarlo è stato Dario Argento ma tutti quelli tutti gli altri tutti gli altri invece lo hanno sempre amato e eccitato tra oltre i registi no copiato esatto oltre i registi no no per carità sì va bene me lascia non stare e però gli artisti copiano rubano è capito e beh bisogna vedere anche come lo fai perché voglio dire se copi esattamente quello che ha fatto un altro e poi dici che hai avuto quell'idea insomma non è quello di cattivo gusto però c'era una diatriba questa cosa in realtà perché quando esce la ragazza che sapeva troppo e nello stesso pochi tipo un anno dopo esce l'uccello dalle piume di cristallo di Argento che in realtà venivano entrambi da Genesi dallo stesso libro che era un romanzo sempre francese Argento si risentì di sta cosa no ma guarda che io io più che dal punto di vista delle storie parlo proprio dell'impatto estetico sì 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 il cinema di Dario Argento con quei colori che lo hanno reso famoso che a parte Profondo Rosso ma penso più a Sospiria a Inferno quelli sono i colori di Bava sì minchia quelli sono i colori però c'è da dire che in Inferno si fa perdonare perché in Inferno la scena dello specchio è del come si chiama nel finale insomma quando lo scheletro esce dallo specchio no? non so se ve lo ricordate quella scena quella è girata da Bava quindi si fa perdonare dicendo il maestro così come poi cercò di farsi perdonare con Fucci ogni tanto aveva questi rimorsi veniva era un cocainomane ma che volete da un cocainomane maestro maestro non sanno quello che dicono maestro non l'abbiamo detto ci dissociamo di sua missione ma Refn ha perfettamente ragione quando di sua missione vi invito Sospiria è il perfetto cocain movie cioè è verissimo ragazzi vi invito a recuperare vi invito a recuperare le prime e uniche purtroppo puntate del podcast di Midnight Factory in cui c'è Gomarasca che parla con Daria Argento e Daria Argento racconta quasi unicamente di quando si andavano a fare le canne quindi non è solo le canne si faceva probabilmente si ricorda solamente Daria Nicoloti ricordava una strada di questa buonanema però tra l'altro si infatti non parliamo di Daria Argento stiamo parlando di maestri del cinema comunque stavo dicendo che appunto oltre a essere stato fonte di ispirazione di tanti e oltre ai registi che abbiamo citato vorrei citarne due che veramente lo amano tantissimo che sono John Landis e Gio Dante anche loro due hanno preso tanto da Bava ma con amore e Bava è in Italia oltretutto si 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 Bava è indubbiamente si Bava è stato sicuramente fonte di ispirazione per tantissimi grandi registi da lì a venire e come hai detto tu è in assoluto uno dei più grandi se non il più grande regista italiano ma sotto tutti i punti di vista sia dal punto di vista puramente tecnico ma anche dall'estetica perché lui fondamentalmente era un estete un esteta a lui piaceva la bellezza quindi le sue inquadrature le sue sono sono dei quadri sono delle veramente le cose che faceva Bava sono belle da vedere oltre che girate in maniera pazzesca cioè vorrei ricordare che oltre la fotografia della maschera del demonio che è veramente ci sono giochi di luce e ombre sui volti dei protagonisti quasi sempre con luce che viene dal basso veramente eccezionali ma il film si apre stiamo parlando di un regista esordiente con un piano sequenza dove la la cinepresa attraversa la maschera chiodata senza stacchi o senza apparente stacchi senza apparente stacchi senza un apparente stacchi all'inizio no raga all'inizio no non c'è quando c'è lo stacco con la maschera quando la cinepresa attraversa c'è una c'è un piano sequenza in cui c'è la cinepresa che va verso la maschera e la attraversa e là c'è un piccolissimo stacco impercettibile ma glielo perdoniamo glielo perdoniamo lo spettatore ha proprio la sensazione che la la cinepresa attraversi la maschera ed è geniale quella scena e poi voglio dire l'introduzione di sto film c'è di una violenza e di una violenza e di un unico stava ammazzando Barbara Steele lui eh stava ammazzando Barbara Steele la scena finale del rugo hanno dovuto veramente chiamare i pompieri che quella stava morire lo dice Barbara Steele sta cosa dice che l'urlo finale è l'urlo vero e lui diceva continuate a girare continuate a girare cioè quella stava morire infatti i due non erano in buonissimi rapporti diciamo credo che Barbara Steele se la sia segnata sì oltretutto la cosa interessante da dire è che essendo il primo film lui già dimostra di essere ovviamente un ottimo regista ma anche un ottimo direttore della fotografia addirittura dicendo che non permetteva a nessuno di andare sul set tranne Barbara Steele ovviamente di andare sul set vestito con abiti colorati le tonalità dei vestiti anche in borghese diciamo così quindi non da attore doveva essere da tonalità che andavano dal nero massimo al grigio quindi perché l'atmosfera sul set doveva essere quella quindi ed è fantastica questa cosa ho trovato geniale questa cosa quando ho visto la prima volta ho detto a presi un genio no ma vabbè ma poi l'uso delle luci che riusciva a fare lui con questi giochi in bianco e nero è micidiale cioè quello quello che abbiamo quello che aveva fatto sui vampiri poi l'ha rifatto anche qua nella maschera del demonio perché c'è un effetto di luci che accelera o quantomeno simula l'invecchiamento o la perfazione diciamo del del catavere anche se devo ammettere che quello come gli è riuscito nei vampiri sicuramente è più d'effetto rispetto a quello della maschera del demonio come effetto visivo dai come effetto visivo l'invecchiamento dei vampiri è meraviglioso è incredibile ma bisogna dire una cosa nel senso che nei vampiri si vede una volta cioè nel senso c'è quel momento lì e poi nella maschera del demonio c'è tutto un campo contro campo dove c'è il barbastile che oltretutto fa due parti se stessa quindi una invecchia l'altra ingiovanisce l'altra ingiovanisce che l'altra invecchia cioè comunque vabbè io non ho detto che è più facile o più difficile ho detto solo che è più d'effetto sicuramente la trasformazione dei vampiri è più d'effetto forse perché è anche un po' più lunga rispetto a quella della maschera del demonio avviene senza stacchi durante il dialogo ma perché ma perché è fatta ma perché è fatta con i filtri con le luci colorate il trucco è colorato quindi in base ai filtri che metteva davanti all'ascine presa si vedeva o non si vedeva il trucco le rughe sono fatte in blu quindi quando c'è la luce blu non si vede il blu quando c'è la luce rossa si vedevano le rughe ma di che cazzo stiamo parlando e poi la gente vuole la CGI per fare le cose no ma pensare Mario Bava se avessi avuto a disposizione la CGI ma oltretutto come lui riusciva a fare giustamente come dicevate proprio prima come lui riusciva a fare cose enormi fatte sembra a queste cose ti sento fatto con una cosa che è quanto il mio computer con l'effetto specchio i terremoti la cripta ma ora stiamo parlando la cripta della maschera del demonio dove c'è il sarcofago che esplode è fatto in una stanza di 9 metri quadri cioè hai tu la sensazione di essere in uno spazio infinito e quella è una stanza di 9 metri quadri come dicevi tu prima il fatto dell'estetica ma ve la ricordate quanto cazzo è bella la prima volta che si vede Barbara Steele in quel film con la luce dietro la sua sagoma in nero che porta i due cani di una bellezza ma secondo me guarda che la fortuna di Barbara Steele più che il film stesso è stata quell'entrata in scena perché è veramente sembra provenire da un altro pianeta cioè la rende inumana cioè qualcosa che va oltre l'umano ma poi in mezzo a quei ruderi della chiesa crollata della cattedrale con questo angelo nero sta donna bellissima e poi porca misera oltretutto vogliamo parlare della della ricomposizione del cadavere della stregasa mamma mia dalla boccia di sangue che cade da film horror proprio da film horror stiamo guardando cioè gli occhi che ritornano nelle orbite quei laghi neri di sangue con le larve ma quello sguardo raga quello sguardo che ti fa cacare sotto nel senso quando si ricompone tutta c'ha quei buchi ovunque e che guarda ho quegli occhi cattivissimi cattivissimi e tu stai là che si gira che ovviamente poi ci hanno fatto la maglietta ovviamente su quella faccia cioè che si gira di lato e là posso dire una cosa là si intravede anche molto l'idea di dove diciamo ha preso un po' l'idea anche poi successivamente Raimi per i suoi demoni diciamo così della casa c'è proprio ma poi l'idea capito questi volti un po' trasfigurati con questi buchi eccetera questi sguardi ma io laimi oltre tutto l'abbiamo citato che è un altro che ama Bava la follia ma ce ne sono tanti io vi posso dire una cosa è una sensazione che ho avuto che in effetti non ci avevo mai pensato e mai riflettere e non ci avevo mai pensato però rivedendolo ieri perché l'ho rivisto ieri la maschera del demonio non lo so ho avuto una strana sensazione non so per quale motivo ma alla fine del film mi è venuto in testa minchia cazzo ma Mel Brooks per Frankenstein Jr sicuramente si è ispirato a sto film ma è già solo per la fotografia cazzi la fotografia no la fotografia è più no 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 non per la fotografia ma per alcune scelte per il finale Bava Bava in questo film non è mai ironico o quanto meno non lo è apertamente ci sono due o tre battute che lasciano successivamente esatto lasciano qualche cosa però non è ironico però voglio dire le scene sono quelle c'è il passaggio segreto con la candela in mano la folla inferocita che entra dentro c'è la corsa della carrozza nel bosco veramente ti aspetti che qualcuno dice il castello il lupo lulano rimetta a posto la candela la candela e porca miseria il pope della maschera del demonio è Gene Hackman di Frankenstein di lui è lui è lui ci ho pensato anch'io a tutte queste cose quando lo rivedevo ma è smaccato proprio quello dei forconi che Frankenstein Junior di Simpson se è proprio la citazione che poi Whale riprenderà per il Frankenstein si vabbè che poi ovviamente si nel senso che poi viene un po' tutto da quello però cioè si vabbè ma che è gotico nel senso Bava ha veramente inventato la nuova forma di fare gotico che poi tutti l'hanno ripresa da Bava tutti anche la Hammer poi l'ha ripresa da Bava anche se devo dire onestamente che un po' Bava non so quanto volontariamente però cioè il gotico secondo me nasce da Corman le ambientazioni gotiche sono quelle di Corman che tra l'altro lo stesso Roger Corman amava tantissimo Bava perché la maschera del demonio fu distribuito in America da Corman fu distribuito da Corman ma infatti la Vustel tra l'altro se non ricordo male in un double feature insieme alla piccola bottega degli orrori cioè andarono insieme al cinema in America in un doppio spettacolo Black Sunday Black Sunday no Black Sabbath si chiama Black Sabbath io sono quasi sicuro che si chiama Black Sunday no no Black Sunday però c'è da dire che in realtà Black Sabbath si chiamano Black Sabbath perché per la maschera del demonio anche se Rafino conferma quello che dice Black Sunday no 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 scusate adesso ce l'ha ce l'ha la prova se cercate le locandine trovate appunto anche Black Sunday oltretutto questo è lo sguardo che dicevo prima ma che è fantastico il film è ancora meglio come dico sempre avrei voluto essere un tizio non dico neanche un ragazzino ma dico un tizio che si ritrova al cinema a vedere un film del genere e dice che cazzo sto vedendo e svenire perché è incredibile altro che poi andiamo al cinema abbiamo visto Avatar a bocca aperta sì per le mosche diciamo che Bava era sì Bava Bava era fondamentalmente un autore quindi è come era un artista era un artista un autore che poi ha messo la sua arte nel cinema però fondamentalmente era un artista il suo gusto estetico le sue invenzioni era un artista non sbaglio sì 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 aveva un ovviamente un forte gusto proprio per proprio Passivega non direttore della fotografia per i colori per il bianco e nero Roma in bianco e nero di fatta da Bava la ragazza che sapeva troppo ma manco Sorrentino è la grande bellezza riesce a fotografarla così e nonostante che comunque quella ha colori questa in bianco e nero diciamo tutti quanti ci dà vabbè ma una fotografia come quella della grande bellezza di Sorrentino ma che cazzo dici ma guardati la ragazza che sapeva troppo e vedi come viene fotografata Roma mai più fotografata così il problema Daniele è quello che hai detto tu quando hai citato Terrore nello spazio il problema è che gli italiani non sanno manco che esistono questi film cioè io sfido a trovare qualcuno che non sia magari folle come noi che conosca veramente la ragazza che sapeva troppo di Bava purtroppo sono film sono film che gli italiani sconoscono ok però ora piccola nota polemica sennò poi dicono che io non sono mai polemico io sono d'accordo col fatto che sono film e gli italiani sconoscono però e credo che qui il buon Danilo mi verrà incontro cazzo ci sono le scuole di cinema affrontate l'argomento non fermiamoci sempre a Visconti Rossellini e compagnia e De Siga cioè allora che Freda che noi abbiamo abbiamo un grandissimo problema nel nostro paese che è il fatto che noi ci prendiamo troppo sul serio allora oltre a questo però c'è anche da dire che siamo tutti bravi 20 per dire siamo nel senso i vari critici di scusami se dico di sto cazzo un po' in giro per l'Italia che sono tutti bravi a denigrare e a fare la faccia storta quando si parla di sti film e del cinema del genere ma io vorrei ricordare sti signori che senza il cinema di genere Fellini 34 ciac per una scena ma col cazzo che le potevi fa' perché chi dava da mangiare al cinema d'autore che oggi chiamiamo d'autore italiano era il cinema di genere il pil dell'industria cinematografica italiana campava sul cinema di genere guarda guarda Danilo su otto e mezzo che lo andava io amo otto e mezzo un capolavoro ma che quante persone andavano a vedere otto e mezzo al cinema è la stessa cosa che accade oggi Danilo tu stai dicendo proprio quello che noi quando facemmo lo speciale sul giallo italiano parlavamo proprio di questo che in quel periodo soprattutto negli anni 70 erano proprio i film di genere che permettevano ai registi impegnati di fare film cioè erano i film di Lucio Fulci con Franco Franca e Cicciengrassia che permettevano appunto a Fellini poi di di fare di fare i suoi film allora senza nulla volerne a Fellini che magari esatti voglio dire magari anzi ne avesse fatti di più però probabilmente economico e produttivo probabilmente proprio l'industria cinematografica se non si basa se non si fosse basata sugli spaghetti western sui film di Franco e Ciccio sugli horror a basso costo probabilmente sarebbe stato un altro un altro tipo di cinema quello italiano a voglia a voglia ma perché la Paramount o la Universal e roba del genere poteva mai fare un pamplum tipo la Bibbia senza i soldi di 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 tutta la fantascienza di quel periodo ovviamente era grazie a quei soldi là si poteva permettere il technicolor con Charlton Heston nazista che spaccava le tavole della della legge il problema è che ora la questione si è invertita i film che fanno soldi sono film di cassetta quindi fondamentalmente vuoti e se posso permettermi neanche tanto divertenti da guardare i film d'autore boh e vabbè ma è anche vero che in Italia però ormai le casse si sono seccate da parecchio per queste cose le casse si sono seccate perché vabbè il cinema è morto economicamente parlando non dico filmicamente ma economicamente parlando è forse anche un bene nostalgicamente vabbè già dagli anni 80 no dagli anni secondo me anni 2000 più che anni 80 poi era 90 ancora era lo stesso Bava che diceva sta cosa che diceva che lui aveva cominciato a smettere perché già si intuiva che erano finite sì no no ha ragione Dalino secondo me già a metà degli anni 80 c'è una flessione una flessione importante no poi lo dicono tutti di quel periodo cioè nel senso tutti i maggiori chi lavorava di più soprattutto nel genere ovviamente ma lo stesso Argento lo stesso Lamberto Bava appunto e dico a un certo punto abbiamo cominciato a lavorare quasi a pagherò in un certo senso cioè ci fu il caso appunto della crisi del cinema italiano quando subentra poi la medusa quindi alla fine investe con Berlusconi che prendeva tutti e diceva sì sì venite con me vi faccio lavorare io e poi non mandava manco un film al cinema quindi la crisi si sentiva e come negli anni 80 infatti tutti hanno smesso l'appio Argento forse è quello che è durato ahimè è quello che è durato di più ma io dico ahimè ma io amo Argento nel senso che sia chiara questa cosa cioè fino a Fenomena io lo amo Argento no fino a Opera in realtà però Opera al finale non se ne scende e la colonna sono e la colonna sonora perdona la colonna sonora metal di opera mamma mia trapano sui coglioni e comunque sì comunque c'è una grandissima c'è una grossa critica però la colonna sonora metal di Fenomena è carina è un po' la sospita dei poveri però no 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 dai vabbè vabbè ci sono gli Iron Maid dai ci sono gli Iron Maid ci sono i motore ma io gli amo gli Iron Maid io sono fanatico degli Iron Maid ma quanto stanno veramente poco bene al cinema gli Iron Maid cioè rendono tutto e basta guardare Demony Demony per me è un film bellissimo capolavoro assoluto di Lamberto Bava c'è una colonna sonora di merda perché perché metal è carina ma c'è Star Rock mi rovini tutta l'atmosfera tranciando tranciando proprio sul nascere un argomento che si potrebbe essere anche oggetto di altre puntate ma potrebbe anche essere oggetto di altre puntate perché consumarlo così vabbè senza andare avanti con la discussione del cinema posso rispondere per una serafina posso rispondere per una serafina sì però Claudio Simonetti all'epoca già poteva andare a fare cartoni capito già poteva andare a fare sai da quando già poteva andare a fare cartoni da questo paura 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 raga scusatemi ma non si può prendere sul serio col film con quella con la sonora veramente la con la sonora fatta da paura 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 prego lo so e se ne vanta però allora è anche questa è una domanda che lascio cadere nel vuoto perché allora continuare a vedere questo cadavere agonizzante di nuovo cinema e non lasciarlo morire lì visto che ci hanno rotti i coglioni durante la pandemia dobbiamo andare al cinema dobbiamo andare al cinema sto prendendo le foto di tutti quelli e vogliono andare al cinema cinema vuoti cinema ma dov'è tutta sì lo so no io non ci sono andato ancora ma dov'è tutta tutta sta gente che che agognava di andare al cinema dove cazzo questa è una bella domanda da finale questa è una bella domanda da finale lascerei così perché non penso che abbiamo altro da dire su Freddo e Bavoli infatti andate a vedere i film e rompete i coglioni però la risposta secondo me secondo me è che non so dove l'ho letta sta cosa però e l'ho trovata bellissima quando l'ho letta dicendo la natura è perfetta perfetta da ogni punto di vista è equilibrata e tutto l'uomo non fa niente altro che distruggere tutto questo perfetto equilibrio però però a sua volta ripaga questo essere un cancro per il nostro pianeta con una sola cosa che nessun animale al mondo può fare ovvero l'opera d'arte quindi lascia a noi umani e quindi alla natura l'opera d'arte perché continuare a vedere questo squalo ormai morto che non va avanti perché è illogico perché come dice Woody Allen nella fine di Yoann dice perché tutti hanno bisogno di uova che bello è irrazionale ma noi ne abbiamo bisogno soprattutto noi che siamo ovviamente tre fanatici totali ma penso oltre che dell'horror penso del cinema in generale provate a immaginare la vostra vita senza cinema in quanto tempo per un lungo periodo di tempo non ci sono andato no 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 io ammetto che per un lungo periodo di tempo non ci sono andato perché e non hai visto film no io parlo di luogo fisico ma lui parlo di luogo fisico Danilo intendeva cinema come film cioè come una situazione di film come allora io ho sempre detto che il cinema fisico perché tutti si stanno lamentando la morte del cinema il cinema fisico è destinato a morire e forse io sono anche contento non me ne voglio affrusciante perché sennò avremmo ancora le VHS però il cinema inteso come forma d'arte si evolverà come è giusto che sia anzi io non vedo l'ora spero di arrivarci e di sapere come si evolverà quindi io facciamo un discorso come luogo fisico con la gente che stava impazzendo aprite questi cazzo di cinema stiamo tutti impazzendo quella è ipocrisia è una grandissima ipocrisia guardatevi ho recuperato il DVD guardatevi stupendo The Canyons di Paul Schrader tratto dalla sceneggiatura di Ellis negli anni 2000 avevano già predetto tutto sui rapporti umani sui social e sulla morte del cinema come luogo fisico perché il film si apre è un film che è stato spernacchiato da tutti io vorrei campare cento anni per essere lì e poi ho detto guardiamo questo film The Canyons importantissimo per tutta la cultura cinematografica sono lì con il mio fantasma che riderò sulle vostre carcasse e piscerò sulle vostre tombe pure sì ma questo già lo faccio ma chiunque mi diceva cosa del genere di colizzer io dico sempre che devo campare sempre un secondo dopo di te perché devo pisciarti sulla tomba no io preferisco sempre dire sì verrò al tuo funerale se tu vieni al mio e questo direi che speriamo che vi sia piaciuta questa super puntatona perché per noi è stato tale magari voi potreste dire siete andati coniglio io ho un'ultima richiesta dove non mi rompo più le palle mentre vado perché la mia chiusura sarà molto lunga tu vai con la richiesta magari voi potrete dire non siete andati così a fondo nelle pellicole come avete fatto per gli altri due precedenti è presto detto che cazzo vuoi dire in più di Freda di Freda e Bava abbiamo detto quello che ci passava veramente da cuore io ho un film nel cuore approfitto del vostro format vai tranquillo va no allora vai Serafino Vampir di Dreyer non dico che sarebbe stato l'ultimo film perché sarebbe stata la ciliegina ma lo sto dicendo cioè quindi sei solamente anticipato Serafino era in programma Vampir era una delle diciamo delle prime scelte esatto è che stiamo cercando di fare un percorso esatto un percorso un po' improvvisato anche grazie alle vostre imbeccate però che abbia una sua logica se vedete alcune illuminazioni io io credo ce l'avete il prossimo perché io ce l'ho sì l'avevamo proprio per questo avevamo pensato una cosa un po' particolare un altro double feature che secondo me è molto 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 interessante soprattutto per la parte italiana che è più che per la parte americana ci è venuto in mente proprio nella scorsa puntata quando abbiamo pensato di fare un double feature per questa sera perché avevamo pensato di proporre salvo lo ufficializziamo sì sì vai anche perché così Chiara la prendiamo per i capelli ok un double feature cioè di proporre che fine ha fatto baby jane in accompiata con che fine ha fatto toto baby che detto così allora detto così potrebbe sembrare una follia una bestemmia ma vi assicuro per chi non lo ha visto di vedere che fine ha fatto toto baby e poi capirete perché lo facciamo questa coppiata esatto di film e per i finiti toto non era mastro 5 non era mastro 5 no 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 non era mastro 5 no 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 era un regista che credo che abbia fatto solo quel film ebbe un sacco di problemi credo che non fu neanche accreditato poi dietro la regia a qualcun altro perché purtroppo era gay e non andava bene e nel film si vede questa cosa comunque ma non solo non aspettatevi una commedia alla totò perché è un film inquietantissimo guarda io credo ma è chiuso il regista è chiuso il regista io credo che sia no anche là c'è ci sono un paio un po' di storie comunque io credo che sia in assoluto la migliore interpretazione di Totò perché riesce a combinare nello stesso film la sua parte drammatica con la sua parte comica ed è eccezionale perché lui ha sempre fatto o parti drammatiche o parti comiche in questo film riesce a fare una commissione delle due sue anime esce fuori una cosa che veramente è unica è totalmente unica e fa più paura del film senza voler sminuire quel filmettino che fino a fatto Baby le sorelle su Cindy Crawford cioè sì che poi c'è questa cosa geniale che là sono due sorelle e qua sono due fratelli è bellissimo questa cosa però è davvero un film interessantissimo da proprio ma proprio da analizzare ci sono un milione di spunti che vengono fuori sì ma anche l'uso delle droghe che in un film italiano di quell'epoca quando mai si è visto una cosa del genere poi in realtà ci sarebbe anche il precursore di tutti i film sugli fantasmi gli invasati gli invasati a me piace troppo gli invasati proprio il titolo italiano mi piace eh sì perché ti dà quella cosa però il film sarebbe ma di film ce ne sono tanti veramente comunque voglio dire se lo facciamo una volta a settimana se prendiamo questa brutta abitudine insomma qualche film ce lo possiamo togliere qualche piccola soddisfazione ce lo possiamo togliere però per ritornare a Serafino il Vampire di Dreyer forse è l'unico film che effettivamente verrebbe meno perché per quanto sia tecnicamente incredibile non per nulla Fontrier Lighthouse e compagnia bella Dreyer lo citano in maniera effettivamente essendo un film muto è uno di quelli più ostici da seguire però non dura neanche tanto quindi magari se lo guardate a piccole riprese per me è uno dei film della proprio di quelli che ma chi si prende a briga di parlare di un film di Dreyer cioè io ho paura con la pentaccia invitiamo te Daniel io già mi sto cagando tutto da adesso l'abbiamo l'abbiamo fatto per Bava ma per Dreyer io direi quasi tutto l'amore ma potremmo provare l'esperimento assurdo tanto i diritti sono caduti di far andare il film e noi ci facciamo il commento sopra la butto alla giallappa la butto con i rumorini esatto dobbiamo fare gli effetti anche tu 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 mentre sotto mi è Dyer questa è la cosa più raccapricciante di tutto ciò esatto come dice Serra fino alle video reaction io credo io credo che con un film di Dreyer non funziona la video reaction perché credo che rimarremmo in silenzio a vederci non penso che funzioni tantissimo si può fare un watch party se ci fosse vabbè ma comunque il watch party lo possiamo fare su su twitch perché tanto il film è privo di diritti quindi anche se lo facciamo partire twitch non ci dovrebbe cagare il cazzo ma infatti credo che non credo ci sia su prime però se dovesse essere su prime sarebbe ancora me possiamo farlo no no il film non ha assolutamente i diritti no ma non ci sta manco su prime quindi si lo potremmo guardare tranquillamente anche tramite comunque ripeto secondo me non è un film da commentare mentre no è perché le immagini io onestamente non me la sentirei di parlare io rimarrei come un come un pirla di fronte a della luce però posso dire una cosa sarebbe molto bello da fare perché ecco nel senso ti fa capire che effettivamente soprattutto Dryer è un regista che sì si può parlare ma vediamolo cioè nel senso allora allora possiamo fare possiamo fare un esperimento che è una via di mezzo nel senso che lo vediamo stoppiamo e parliamo perché parlare poi magari di una scena mentre vanno avanti è terribile anche perché è tutto un susseguirsi tutto un susseguirsi di allucinazioni sì sì quello sono d'accordo magari non tutto però dare lo spunto così poi chi se lo vuole continuare secondo me no su alcuni film lo puoi fare eh sì però non lo puoi fare con Dryer come dice Simone è una meraviglia dietro l'altra con che coraggio interrompi mentre stai parlando dici no no aspetta perché poi c'è questa scena non si può fare se lo facciamo tanto il film appunto non dura tantissimo se lo facciamo che magari un'ora e venti no un'ora e venti no no un'ora e venti vabbè magari mezzo film lo possiamo fare o saltiamo le parti più importanti allora mezzo film non ha senso o fai mezzo film ti posso poi spaccare la faccia poi appena lo metti esatto o lo vedi o lo vedi tutto allora lo sai qual è il problema che cosa fai lo stop ogni dieci secondi lo stop ogni venti secondi allora facciamo così viene una live di sei ore appunto non è un problema facciamo così questa è la parte più bella della live che si sa esatto esatto perché tra l'altro queste sono le nostre discussioni mentre cerchiamo di accapezzarci per colpa vostra io ci sto venisse anche una live di otto ore facciamo carcassa non stop per dryere ce ne sbattiamo i coglioni è baffanculo baffanculo per dryere ci sta tanto è l'ultima puntata del ciclo la facciamo fra un anno non mi preoccupate da qua un anno abbiamo un'altra pandemia eh la volevamo fare come ultima sì ma la vogliamo fare come ultima ma non è che è la prossima che è l'ultima no no non sappiamo quando sarà la prossima appunto allora cazzo di frega dite si può pagare poi cambiamo idea esatto ma c'è chi si dimentica è molto probabile questa cosa la gente si dimentica quindi allora prossima puntata double studiate recuperatelo che fine ha fatto baby j capolavoro che fine ha fatto totto baby super capolavoro questo forse sarà un po' più difficile da recuperare ma ci mettiamo d'accordo nel caso per chi è interessato cerchiamo di recuperarlo grazie a simone per la sua cultura sterminata è uno dei casi in cui la vecchiaia ha un senso io però volevo dire solo un'ultimissima cosa proprio ultimissima perché di bava abbiamo nominato tantissimi suoi film è di fredda no 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 vabbè anche di fredda però soprattutto di bava abbiamo nominato tantissimi film se qualcuno di quelli che ci ascolterà lo conosce poco e volesse magari non recuperare tutta la sua filmografia cosa che onestamente io consiglio però magari guardatevi assolutamente reazione a catena se dovete scegliere se dovete scegliere un film di bava guardatevi reazione a catena bella sta cosa consigliamo a testa un film di bava vai salvador per me uno solo è cani randaggi cani arrabbiati cani arrabbiati scusa sono troppo affezionato con tutto che non l'ha finito di girare lui cioè l'ha finito di girare lui l'ha montato però perché è il primo che ho beccato di bava in tutta la mia vita da ragazzino e poi da lì sono andato indietro male ci dice che fino a fatto todo bevi c'è su prime grande bellissimo grande grande io invece se devo consigliarvi un film di bava io ho diciamo il mio amore totale ma si è capito durante la live che sei donne per l'assassino è uno dei miei film preferiti in assoluto di Mario Bava come una trama stupidissima un giallo stupidissimo ma esteticamente è qualcosa che vabbè se vogliamo dire anche la maschera del demonio non è che abbia una trama così innovativa quindi come hai detto tu la trama non era sicuramente la prima cosa a cui badava secondo me in Cani Arrabbiati c'era un po' erano già gli anni 70 effettivamente in Cani Arrabbiati c'è proprio tutto al lato più cinico no no ma veramente c'è proprio tutto il cinema di Tarantino senza che ancora Tarantino fosse esatto il prego delle Iene uno spermino che camminava eppure lui dice che non ha mai visto quel film prima di fare le Iene io non ci credo ma anche io non ci credo ma proprio perché scene copiate pare pare no ma è un caso però però devo dire onestamente devo dire che Tarantino non mi sembra il tipo non è uno che spara minchiate esatto dai poi soprattutto nei riguardi del cinema italiano non penso proprio però probabilmente l'aveva visto con un altro titolo l'aveva visto no magari oppure magari l'ha visto in un momento che poi non se l'ha ricordato più esatto gli era rimasto non so come non so come non mi ricordo come si suol dire gli era rimasto il colpo in canna e quindi esatto lo ricordo probabile insomma e soprattutto se volete capire un po' Tarantino come ha iniziato la sua carriera guardate Clerks che secondo me il film era un autorizzato di Tarantino ehm Kevin Smith proprio e poi vabbè li avete tutti e tre ma io non posso non finire bava senza citare i tre volti della paura perché vabbè si cazzo no ma perché no 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 mi devi fare finire allora scusate ci diamo perché la scorsa volta ho detto ma la scorsa volta cosa ho detto su Freaks lo diedero alle 11 del mattino su Re 3 poi dietro il giorno dopo in compagnia dei lupi sempre su Re 3 il terzo giorno e l'ultimo giorno diedero i tre volti della paura poi secondo me quel famoso direttore di Re 3 non so in quale pilastro di qualche palazzo si è finito perché un genio che alle 11 del mattino su Re 3 mette tre capolavori così è un eroe e come tutti gli eroi sarà morto martire e poi comunque stavo pensando che ho veramente quel film i tre volti della paura chi l'ha visto all'epoca io penso che quando ha visto il film a parte il fatto che fa paura perché c'è l'episodio della goccia che è veramente terribile però voglio dire chi ha visto quel film ma voi immaginate al cinema a vedere Boris Karloff che calca un pezzo di legno come cazzo c'è rimasto cioè è un genio assoluto cosa che poi è un genio bravo ripreso cosa che poi ha fatto Jodorowsky Jodorowsky nella montagna sagra stessa cosa che ha fatto Jodorowsky nella montagna sagra la rottura della quarta parete genio Alejandro come ci sei arrivato Mario Bava mentre si mangiava il suo piatto di trippa esatto però Jodorowsky si calava di funghi in operazione paura Rossi Stewart che si rincorre da solo che è identica alla scena ovviamente di Lynch in Twin Peaks di Cooper che si insegue da solo all'interno della roggia nera uguale identica che cazzo stiamo parlando stiamo parlando di nulla se non conoscete Bava vedete i film di Mario Bava che poi tra l'altro veramente noi abbiamo parlato del Bava Horror però guarda che Bava ha fatto anche tantissimo come Lucio Fulci ha fatto Commedia Western si 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 ma anche i film comici di Bava so da vedere Frank e Ciccio ha fatto per Frank e Ciccio si 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 aspetta ha fatto le spie che venivano dal semifreddo bellissimo meraviglioso e se non mi ricordo male in quel film c'è anche Vincent Price si che mi pare che fa il cattivo si che è filmone quello è un filmone veramente e poi c'è c'è il film diciamo più diciamo che poi lo fece litigare col produttore che era ah poi un film bellissimo Lisa e il diavolo ma io ripeto anche la frusta del corpo Lisa e il diavolo nella versione di Bava ovviamente e non nella versione di Coso che non mi ricordo neanche come si chiama del produttore dove ci infila un esorcismo dentro che non c'entrava un cacchio di niente solo perché era uscito l'esorcista però il film da solo di Mario Bava Lisa e il diavolo che è bellissimo va visto assolutamente che è fantastico Diabolik ovviamente Diabolik non l'ho cito perché dove è scontato però sai però sai che Diabolik credo che non sia mai stato un film che lui abbia amato particolarmente è stato un film distrutto dalla produzione sì perché era un film che era partito con mille aspettative e poi si è ritrovato a fare come come al solito con gli scatoli di cartone le lucette colorate quindi credo che ci sia rimasto male perché doveva essere la sua mega produzione italiana che invece poi si è rivelata come come tutto il resto il famoso fumetto certo doveva essere quasi diciamo tra virgolette il James Bond all'italiana è un certo sì 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 va bene siamo arrivati alle due ore non volevamo farlo ma ci siamo arrivati ma l'abbiamo fatto ma meritano dai Bava e Freda vabbè anche se devo dire che per un'ora e mezza abbiamo parlato di Bava onestamente ma ci sta purtroppo ero consapevole di questa cosa come dice Serafino non andate a vedere Merzuring che sarebbe Conjuring altrimenti sembrerebbe Meciugori state a casa a guardarvi i film di Bava oppure se qualcuno fa una bella trospettiva al cinema visto che vi piace tanto andare al cinema piace anche a me per carità andare al cinema quando ci si può andare a vedere bei film detto questo vi ringraziamo ringraziamo Simone come ho detto ringraziamo Danilo che si è unito la scorsa settimana per il suo compleanno non ci è potuto essere perché il film è scelto da lui orva si gara però lo so anche a noi è dispiaciuto che tu non ci fossi non hai visto le lacrime mentre ci stavano però abbiamo parlato con le due proprio però Danilo Danilo ti posso assicurare che abbiamo parlato male di te per un'ora ma l'ha vista l'ho vista ma quando si tratta di parlare male di Danilo che ci vuoi siamo tutti presenti non ci tiriamo mai indietro ma ho notato che è reciproca la cosa quindi non ci tiriamo mai indietro quindi grazie a Danilo grazie a Simone grazie a Serafino grazie a Frankie Marg Peppelicci ma Margherita si sarà addormentata Margherita ormai c'ha un'età super super Margherita è praticamente arrivata ha insultato Danilo e poi si è andato ma ti ha detto ha un'età lei ha dato fonda la poverina sta scrivendo come uno sesso anzi che viene a salutare già la ringraziamo solamente perché ha trovato le forze per insultare Danilo grazie a Frankie che si è abbonato a Patreon mi raccomando una cosa che mi hanno fatto notare abbonatevi se avete Prime Video non siete abbonati Twitch collegato a Prime Video non siete abbonati a nessun canale fra cui anche B-Roll Produzioni magari siete già abbonati a B-Roll Produzioni quindi rimanete così ma se non siete abbonati a nulla ormai Danilo mi dispiace siamo sul carcass potete eccolo 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 stavo ridendo stavo ridendo per quello lei agisce nell'ombra e allora allora ci vuole ci vuole se riesco a farlo qua qua da da StreamYard la faccia di Margherita perfetto Margherita ti do anche il codice carca guarda lo scrivo separato carcas set mother per fare la faccia di Margherita quindi voi dalla chat potete utilizzare Margherita per offendere Danilo ma io c'è un cappello in testa si è il cappello di carcassa ah ok che era già bella così di suo dovevamo un po' limitarla no dovete scrivere tutto attaccato non funziona la M grande la M grande l'ho scritta apposta la M grande eh sì ma scriverlo bene tu l'hai scritto e no se scrivo la M grande non ce la fanno scusa forse vale solo per me allora non lo so perché si devono abbonare si devono abbonare per poter bloccare manco questo sai hai visto si devono abbonare vi dovete abbonare ah giusto abbonatevi dovete avere l'abbonamento di primo livello eppure minca veramente stiamo continuando sta live ma che te frega è tutto è grasso ma porca puttana poi io sono il primo a non sapere scrivere comunque andate andate sul selettore di emoticon e vedete se ci sono le emoticon di carcassa credo che sapete cosa doveste fare dovete mi pare spendere no carcassa guarda mi sembra in questo momento mi sembra Fantozzi che tenta di nominare Scalibur uguale l'ho scritto in dieci modi diversi credo che ha ragione Peppe vedi eh ma io l'ho sbloccato con il mio altro account non con quello di carcassa mannaggia al coniglio vabbè dateci i soldi spendete 10 euro di bit prendetevi le emoticon no ma oltretutto diglielo che per il Prime Day adesso fino al 22 abbonarsi ai canali di Twitch costa il 50% in meno ok ragazzi per il Prime Day fino al 22 abbonarsi ai canali di Twitch non ti arrivano le email di Twitch minchia ma sai tutto coniglio ma come come le sai queste cose guarda è come se avessi una voce nella testa ma io non è allora io devo gestire carcassa devo fare altri podcast devo andare al lavoro devo andare a presto tutti i miei casini devo dimagrire 10 kg ma cosa vuole dalla mia vita devo sopportare Simone anzi visto che Simone non mi guarda i video Simone dovresti procurare 10 magliette 5 L 5 XL grazie così incomincio a spedirle alla gente di carcassa che è gigante e non basta la M Frankie Frankie allora devi tutto collegare Prime a Twitch lo stavo spiegando se tu colleghi Prime a Twitch c'è la sezione abbonati per un solo canale potete farlo gratuitamente l'unica seccatura è che dovete farlo ogni mese questo perché vi permette di cambiare canale ogni mese se volete rompervi invece fino al 22 praticamente fino al 22 se hai collegato le due cose insieme costa il 50% in meno abbonarsi a un canale invece se non hai collegate le due cose praticamente è solo il 20% in meno oh Serafino ti spedisco la XL se Simone me le fa e la L la regali a un altro gli fai fare la foto e gli dici abbiamo un bel podcast allora io vorrei dire una cosa quando ho fatto le magliette ho chiesto al buon coniglio tu hai cambiato hai cambiato marca hai cambiato marca perché le altre magliette stavano più larghe queste stanno più strette ho detto ma le XL le facciamo e tu mi hai detto no ma chi cazzo se le mette le XL mica c'è gente che può indossare la XL ma io che ne so che Serafino è due metri gigante o che lui ingrassassi dieci chili così di un botto allora la mia S è ancora stata mi sto regalando se non ti va appendi lei è bellissimo se mi disse se non ti va ma infatti non è da indossare è da prendere aggettivamente è vero che gli dissi però ti ho spedito la tazza ti ho spedito la tazza no ancora non ti ho spedito la tazza non hai fatto un cazzo sto aspettando le XL così spedisco le tazze senti ma ci vuoi dire se ci abboniamo a Patreon che cosa ci aspetta se vi abbonate al Patreon vi aspettano contenuti in esclusiva la possibilità di partecipare in puntata la possibilità di chiederci argomenti o film anche in maniera privata a breve faremo anche puntate a tema che andranno solamente per i Patreon così potranno dire io pago e c'ho le puntate e tu non ce l'hai sarà solo una puntata al mese e poi ci sono anche tanti simpatici gadget esatto ci stavo arrivando avete la possibilità di avere le magliette le tazze le spille tipo ora a Frankie gli manderò la spille perché quando io indosso una XXL perché sono un metro e un cazzo quindi la XXL mi arriverebbe fino alle caviglie ma un cazzo di quelli modesti però sì sì un cazzettino un cazzettino un cazzettino barzotto neanche tu un barzotto di quelli che non si indurisce mai le tazze le spille abbiamo gli adesivi abbiamo un sacco di cose che vi manderò se mi dite dove abitate quando ho le ferie vi passo pure a trovare se ci arrivo con il treno allora io dico una cosa io dico una cosa a Serafino perché sto leggendo che tu praticamente a Serafino non gli hai mandato un cazzo no gli ho mandato la maglietta sbagliata però no sbagliata avevo solo la L cosa gli dovevo mandare la devo sbagliare dai ora mi impegno io a fargli avere le cose a Serafino ecco bravo che siete pure vicini che cazzo vuoi se abiti pure vicino a Serafino sì vabbè a più volte ti dovrebbe una bioproduzione stai dicendo una vita ma io ormai ho perso speranza ma veramente ragazzi basta un euro o poco più in base alle vostre cioè voi se vi fate ragionare ora non voglio fare il morto di fame ma facciamo un ragionamento stasera vado al cinema per dire quanto mi costa il cinema 9 euro più pop 9 euro a Milano costa 9 euro più pop corn altri sì no a Frank rispondo non posso spiegare questa cosa mi ammazza di StreamYard non si può rispondere è vero sì devi andare su Twitch fra un po' anche quegli adulti saranno senza loro andate al cinema ma non parlo per Frank che un bravo ragazzo ci ha donato quello che poteva ma la maggior parte ma l'ha detto ma va a vedere se l'ha fatto pure con me l'aveva detto no no mi è arrivata la mail mi è arrivata la mail ah bravo smacco morale a Danilo grazie grazie smacco morale grande Luca andate al cinema 9 euro i pop corn vi costano 6 euro più la cosa insomma 20 euro ecco invece vi date a carcassa vi mandiamo le magliette vi mandiamo così via di dire sai che c'è stai dicendo un sacco di fregnacce invitatemi in puntata vi invitiamo in puntata e proprio so cazzi vostri in puntata ci date ci parlate di quel film austro australiano che conosco solamente io e noi te ne parliamo perché sicuramente già l'abbiamo visto quindi vi portiamo pure Danilo ah se Frankie vuole venire volentieri se non ci sono problemi eh noi invi ti occupi c'è culo così Frankie culo così io infatti ho abbassato un euro perché Alessandra mi ha detto 3 euro sono troppi abbassalo un euro eh già non sopporto la gente che c'è per strada quindi ridatemi il lockdown grazie a tutti siamo arrivati a 2 ore e 20 di cui 40 minuti di assoluto nulla ma noi vi vogliamo bene io non ho bisogno di respirare perché io sono un grande showman dove eh non ci vedo manco io quello che sto dicendo vi vogliamo bene eh tra l'altro Giada domani dovrebbe arrivarti una sorpresina eh a Giada sì e a Serafino no chiediti perché Serafino chiediti pure Giada si è abbonata Giada è abbonata da tempi in memoria lasciala stare c'è c'è capito gente che porto io alla fine che si abbonano ai canali degli altri e non ai miei capito Danilo sono Danilo odiare devo fare dei live odiandovi Danilo onestamente ora senza nulla togliere a te ma noi siamo bravi questo è obbio questo è obbio questo è obbio Danilo Danilo è più che bravo infatti è molto più completo di noi che trattiamo un solo genere Danilo ha 300 stavoli Danilo si sta facendo i watch party si sta facendo le live si sta facendo le direzze si sta facendo le notizie Danilo è a 360 gradi il fatto è Danilo per voi sai qual è la differenza fra me e te è che io rompo i coglioni alle persone quindi sto facendo il pezzetto giusto allora posso dire una cosa Serafino ha svelato l'arcano il problema è che il problema è Danilo che a te non è piaciuto Ermy of the Dead guarda che fondamentalmente è anche quello è una chat allora mi sta bene e poi tu non hai sospiri non hai sospiri qua dietro che caccia le falene devo andare a salvare una falena allora grazie a tutti grazie a tutti della chat vi voglio bene vi vogliamo bene anche le nostre cravate vi vogliono bene vi aspettiamo domani vi aspettiamo domani con Jack Jackbox un'ora di trailer reazioni notizie ultimamente anche sulla musica su tutto ciò che ha avuto una bella idea sui videoclippi horror Jack sì sì grande grande idea ma io vi dico solamente Nine Chnails non lo so perché io settimana prossima di torno al lavoro troveremo un buco per farla come disse Rocco domani Jack venerdì e sabato riposiamo perché noi a differenza di Dio riposiamo due giorni domenica sera non so su cosa faremo la live ma so che è uscito un film visto che stiamo continuando con questa cosa che la gente vuole andare al cinema so che al cinema è uscito un film tanto per continuare siamo partiti bene con Freaky siamo passati da The Conjuring 3 e vi dico lì è uscito il remake di Soul Spiral che già mi hanno detto fonti note mi hanno detto che stavo per fare una battuta razzista vabbè no no qui c'è drammatica su sta cosa sì infatti diciamo che è brutto è un film molto molto cacca ecco guarda io li ho visti tutti e perché scusa domanda ma perché bisogna decidere di parlare di un film che già si sa che è una cacca perché alla gente piace alla gente piace no 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 la gente piace The Conjuring alla gente piace Spiral che fai come dicono dalle mie parti e sti cazzi è vero però al cinema questo stavo scendo perché lui è furbo fa le live sapendo e poi creerai capito il flame il famoso flame per questo Danilo si abbonano esatto 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 ci andiamo pure di sfiga perché poi ci danno pure ragione che The Conjuring 3 fa cagare quindi neanche il flame possiamo creare no secondo me è stato il momento che tutti hanno parlato di Conjuring 3 nello stesso momento proprio della vostra live c'erano tipo 3-4 live che stavano parlando solo di quello capito e quello un po' ci dà fastidio perché noi di solito cerchiamo io per questo sono contento che Birol non fa critica perché altrimenti mi ammazzerei non ce la farei mai a stare dietro con queste cose io cioè impazzirei totalmente no perché lo devi vedere poi alla fine capito vabbè ma alla fine te lo guardi perché è una cagata ma infatti fate benissimo io cioè vi invidio no però fate benissimo abbiamo iniziato da due settimane in tre anni tu penso un po' ti invidio fate 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 benissimo no no non lo so su domenica su cosa faremo la live però ci studiamo qualcosa che magari è uscito da poco su Netflix Prime che onestamente vogliate andare al cinema ma qualcosa di brutto però devi trovare devi trovare qualcosa di brutto cioè del bello devi dire è bello effettivamente quello è brutto è difficile trovare qualcosa di brutto su Netflix a parte il logo dici no onestamente a noi non piace parlare di film brutti perché sembra quasi sparare sulla croce rossa no dai non è vero abbiamo parlato di film brutti che però sono anche un po' belli no sono belli brutti ma belli brutti ma belli mi piace ma brutti e inutili mi dà noia cioè a meno che non vuoi creare il flame sono i dolci di tratate è cosa quello dell'altra volta è stata la live bravo bravo c'è ben grande frankie vuoi venire a parlarne insieme a noi vai vai vieni a parlare benny benny loves you mi piace mi è piaciuto finalmente è riuscito a recuperarlo non avevo dubbi sta cosa perché a te non è piaciuto benny loves you sei uscito su prime sul canale midnight dai un film è fatto ti voglio bene ma è una pressa per il culo esatto è una pressa per il culo di ciachi dai mamma mia allora allora ci siamo io danilo frankie eravamo io sì eravamo siciliano napoletano un romano allora fino a 6 ci arriviamo creiamo una live per benny benny loves you e troviamo chi possibilmente equilibriamo chi l'ha odiato e chi l'ha amato a me è piaciuto non dico che l'ho amato però è piaciuto a danilo ha fatto schifo a frankie è piaciuto quindi troviamo altri altri a cui non è piaciuto e facciamo oddio forse ce l'ho un altro a cui non è piaciuto però lo devo convincere no è un ragazzo oddio un canale che mi ha detto ma che cazzo ti guardi i film dei pupazzetti proprio così ma ho detto sì comunque frankie per rispondere a questo poi mi sto zitto che basta 2 ore e 20 comunque è proprio per questo motivo che poi sharknado ne hanno fatti 8000 proprio per quello che dici tu vabbè ora non confondiamo sharknado eh no questo fatto dell'amore del trash del peggio è che il trash ha una ha un onore da mantenere ma proprio questa cosa delle cose è bellissima questa cosa esatto c'è anche una cazzata su questa cosa che ha detto trash interessante perché ci vorrò fare una live però lì veramente andiamo sul flame più spinto parlavano il trash ha una dignità sì e infatti se mi fai finire il discorso che ormai si utilizza la parola trash per tutti quei film lievemente strani vengo e mi spiego con un esempio il colore venuto dallo spazio film trash no Mandy è brutto è brutto ma non è un film trash Mandy un film trash Psycho Girl Man ah che film trash bellissimo ma ragazzi il trash è altro che ha una sua dignità ma è altro non è un film gore un po' fuori di testa se no è film del genere horror ma basket case non lo concepiscono neanche come trash horror in Bowen Street è trash no no dai basket case è un po' trash per i mezzi però trovo più trash sempre di Anne and Lotter allora a sto punto Brian sì nella sua anima come It's Alive The Stuff è trash Horror in Bowen Street è trash Il ritorno dei pomodori assassini è trash tutti i film troma sono trash Psycho Goreman nel colore nudo dello spazio Mendy non sono trash no Mendy assolutamente capisci neanche ma secondo me Psycho Goreman non ha neanche sfumature trash e Critters anni 80 Critters allora non è trash i Gremlins non sono trash no i Gremlins no i Gremlins no Critters allora i Gremlins no i Critters un pochino i Gullis sì i Gullis e trash ecco i Gullis e trash però vedi che già puoi qua calcolarlo trash Gullis no i Gullis ah no ok allora i Gullis no i Gullis divento donner e ti prendo a sberra i Gullis i Gullis sono la versione povera dei Critters no i Critters sono la versione povera dei Gremlins sicuramente vi ricordate qual è esatto Critters lo disse ma l'altro che sicuramente vi ricordate qual è perché andava sempre su Videocolor e la copertina è quello del mostriciattolo che esce fuori dal cesso l'avete visto è meraviglioso i Gullis ma sta su qualche piattaforma Prime Video dovrebbe averlo io i Gullis li adoro perché i Wasp ci hanno fatto una canzone proprio dedicata a una colonna sonora spolettissimo Killer Clown from the Outer Space no quello è un emblema del trash proprio quello è calma il trash va bene detto questo quindi scusa mi sono perso hai detto qualcosa su Killer Clown from the Outer Space da un capolavoro ah si mi ricordo che qualcuno ci ha fatto no no tu Danilo ha detto un cult ha detto un cult ah e no non era non ho sentito bene ho sentito solo è un K e poi non ho sentito il re pensare è sempre ragazza il trash mi è anche piaciuto come film da vedere al cinema per quanto sia un filmettino come tutti i filmini abbiamo fatto quasi un'ora di abbiamo fatto quasi un'ora in più però vi abbiamo svelato un po' è interessante quindi per chi ci ascolterà soprattutto in podcast è interessante perché vi abbiamo svelato un po' come va avanti la vita di carcassa di fuori di carcassa quindi queste sono le discussioni che facciamo quando dobbiamo fare le puntate che abbiamo reso partecipi dovrebbe essere una esclusiva per quelli che sono Patreon quindi mettiamola così le prossime esclusive Patreon saranno un po' così fuori onda contenuti extra e cose varie noi vi abbiamo dato un assaggio voi vi fate un po' la boccuccia buona questa cosa però caccia la pila anche se a noi questa cosa fa schifo ma perché ma no non mica ci vogliamo arricchire devo pagare Spreaker ho Spreaker sul fiato sul collo e poi devo comprare le webcam e i microfoni a Simone Margherita e Nick che non si possono più anzi Simone quasi quasi si è sistemato ma io voglio magari sono Margherita Nick e Jack ma mo ci starà il Prime Day ci starà te li butteranno appresso così ma io facciamo la Margherita per Natale bravo bravo faglielo tu tanto lo stesso la vogliamo finire sta live voglio andare a letto e quindi ragazzi grazie buonanotte ah così buonanotte dopo un'ora e mezza che cazzo che cazzo ma fai una chiusura un po' più una degna esatto una chiusura degna una chiusura degna ok una chiusura degna ma di tutti i due film o di tutta la nostra storia tutta la nostra storia fai una chiusura di un'ora un'ora e mezza esatto ragazzi vi ringraziamo perché come diciamo spesso la bellezza di Carcassa non è tanto di quel che noi diciamo a voi ma di quel che voi dite a noi grazie buonanotte mei coglioni e notte alta ma con l'orario ci stiamo arrivando lentamente eh ma cazzo è mezzanotte andate a fai in culo buonanotte ciao a tutti ciao 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 ciao